Buonasera, possiamo dare inizio ai lavori. Io vi recco il benvenuto del direttore della scuola Fabio Beltram, gli auguri di buon lavoro ai quali naturalmente aggiungo i miei personali e quelli di tutti i colleghi della scuola. La scuola è molto fiera di ospitare questo incontro organizzato da Gianfranco Adornato e da Eugenio La Rocca, due cari amici, uno di vecchia data, insomma cari Eugenio, vecchia data, amicizia, vetus, sed, non amici. Questa non è una frase di Cicerone né di Catone, l'ho inventata io per l'occasione, però suona bene insomma il mio contributo scientifico a questo convegno. Quindi vecchia, ma noi siamo sempre giovani naturalmente, ma l'amicizia è vecchia e solida e appunto è un amico più recente e più giovane e parimenti caro. L'interesse del tema e la qualità insomma dei partecipanti si inseriscono a pieno titolo in una gloriosa tradizione di studi storico-artistici, archeologici della scuola normale, che tutti conoscete, non c'è bisogno che io la illustri, alla quale partecipano sia storici dell'arte, archeologi puri, se così si può dire, ma anche storici come Nino Ampolo che insomma praticano con pari perizia sia il mestiere di storico sia quello di archeologo. Quindi è un luogo dove questa tradizione importante si coniuga con un'iniziativa di altissimo livello, di altissima qualità, perché il tema è importante come tutti voi sapete, i relatori sono di personalità, di prestigio e comunque altamente competenti. Si aggiungono anche molte presenze di colleghi che vengono da fuori, sia da fuori della scuola, intendo dire dalla facoltà di lettere, l'università di Pisa, che a sua volta ha un'importantissima tradizione in questo campo di studi, ma anche da Roma e da altre città e questo arricchisce la giornata di oggi. Devo dire a titolo personale che io considero francamente usurata la formula tradizionale dei convegni, i grossi convegni che durano tre giornate e che hanno presenze, tranne rari casi, tranne quando si tratta di convegni istituzionali, che fanno il punto, i bilanci storiografici o altre occasioni di questo genere, ma la formula, insomma piccola nelle dimensioni, non nella qualità che si è scelta, è per me la formula ideale, quella che avvicina insomma il convegno a un seminario di studi e oggi abbiamo, tra oggi pomeriggio e domani, proprio l'occasione di discutere tra amici e tra colleghi, dibattendo di questioni difficili in un'atmosfera di tipo insomma seminariale, ecco collegiale e questo è a mio avviso la forma più adatta e più proficua. Io rivolgo un affettuoso pensiero alla nostra collega, la professoressa Irene Baldromano che ha avuto un incidente due giorni fa, un incidente non grave fortunatamente, ma un incidente serio, insomma abbastanza serio da farla operare e qui con noi e pensate è stata operata ieri, credo, ieri, sì, e ha, devo dire, ho assistito all'incidente, ho visto con quale eleganza ha, come dire, subito la frattura di un piede e ora vedo con quale coraggio, dopo pochi giorni, è qui tra noi fresca e desiderosa di lavorare con noi e quindi gli faccio un saluto affettuoso e un applauso veramente. Grazie per essere qui, grazie per essere qui con noi e complimenti davvero per la sua forza. Devo dire che, insomma, le premesse quindi ci sono tutte per delle giornate interessanti, profighi, a cui immagino, spero, mi auguro, seguirà anche qualcosa di non effimero, cioè che questi interventi, qualora siano come prevedibili, di interesse scientifico, abbiano una volta un esito editoriale. Quindi non mi resta che augurare a tutti buon lavoro, insomma, è l'ospicio migliore traendo, insomma, spunto dall'oggetto di cui oggi parliamo e che, insomma, ci accompagni questa statua, insomma, col suo volo leggero e ci faccia planare il nostro campo, terreno, insomma, di studi su cui svolgiamo il nostro mestiere, insomma, difficile e affascinante. Do quindi adesso la parola a Gianfranco Adornato, che darà un'illustrazione, insomma, dei contenuti della nostra iniziativa. Prego, Gianfranco. Buona serata a tutti voi. Mi associo al benvenuti del Vice Direttore Andrea Giardina, che ringrazio di cuore per la sua presenza e per le sue parole. Grazie Andrea. Dear friends, dear colleagues, dear speakers, welcome to the Scuola Normale Superiore. It is a pleasure and an honor to have such an outstanding audience with us and thank you for coming from different parts of Italy, Europe and the United States of America. I'm happy to open the conference Athena Niche of the Fondazione Sorgente Group, a Greek original in Rome. This event represents the very first scientific colloquium on a unique 5th century Greek masterpiece, the so-called Athena Niche, after the wide and thorough Edizio Princeps of the statue published by Eugenio Larocca last year in the catalogue of the collection. I had the opportunity to see the marble statue in June 2013, together with Elena Ghisellini, and I was truly impressed by the high quality of the sculpture, its good preservation state, and the intriguing presence of the cuttings and pins on its surface. For these and many other reasons, I immediately expressed my interest to Valentina Nicolucci, to organize, she's curator of the archaeological collection of the Fondazione, to organize an international colloquium on the Greek marble statue here in Pisa, in order to make it more accessible to the scientific community. Let me warmly thank Valentina Nicolucci, and through her, the Fondazione Sorgente Group, for joining us and expressing my gratitude to the Fondazione itself for their letting many of us visit and inspect the statue and the whole collection in Rome in the past months. I recommend you to make a reservation and visit the sculpture and the collection as the exhibition at the multimedia installation are still open to the public. It is a privilege to have the editor princeps of the Greek masterpiece Eugenio Larocca, who enthusiastically accepted my proposal, with whom I fruitfully interacted while defining the schedule of the event. His seminal publication on the statue represents the core for today's and future discussions, publications, and meetings about the statue. In his Lectio Magistratis, he will present the different and complex issues related to the marble statue, from chronological and stylistic issue to iconographic and historical ones. After his paper, we shall have the opportunity to discuss with him about specific topics, but I should like to remind you that we have four more speakers tomorrow morning. So please do not exhaust all your questions this evening with Eugenio Larocca. His presentation will shed light on the many lives of the statue, from its supposed and hypothetical original context in Greece or in a Mediterranean Greek city, to its secondary context of reuse and resemantization in Rome. And we should like to know more about the post-antique life as well, mainly on the history of the collection up to the moment of the rediscovery and the actual life in the museum. Internationally recognized scholars, experts in Greek and Roman art and sculpture, will address several specific aspects and will discuss topics related to 5th century and Greek iconography, typology, context, and Roman perception of the type and of the sculpture in its updated Roman context. As for the iconography of the statue, Arne Thomson will illustrate the main peculiarities of the marble statue, thanks to the parallel analysis of the visual data on Greek vases, dating to the second half of the 5th century BCE. As already said, the Athena Nicae statue represents a truly unique piece for the presence of objects and attributes that are generally related to different divine or mythological figures and never attested together in other marble or bronze sculptures. Ken Lapatin will explore and reassess the hypothesis that the type derives from the Nike of the Athena Parthenos, presenting the Greek original statue in the wider artistic frame and background of the Parthenonian project, and considering whether and how an important Athenian commission of a winged goddess of circa 400 BCE may be connected to or influenced of it. Olga Palagian will analyze the Athena Nike from the technical and iconographical points of view. Thanks to a close inspection of the cuttings and of the anatomical details, the scholar will suggest an alternative solution as for the attributes, the function, and the iconography of the figure. Irene Bald Romano is here with us, and I'm particularly happy for this. We spent three hours in the hospital in the emergency room last night, and she just left the hospital after the surgery, and I would like to address my special wishes for a quick recovery using the Italian formula in bocca al lupo instead of the American motto, break the leg, since, Irene, you broke the ankle. So, our fourth speaker, Irene Bald Romano, as editor princeps of the Pitcairn Minerva Victoria of the Glynkern Museum, that is the Roman twin in the USA of the Fondazione statue, will investigate relationships and degrees of relationship between the Greek original statue and its Roman copy or variant. Lucia Faieto will help us to summarize and highlight the most significant contributions of each paper, and I'm sure will provide many insightful comments for future investigations. I do hope that after this meeting, there will be other opportunities to discuss and look at the Greek masterpiece. It will be important and fruitful for further scientific occasion, from my point of view, to plan in the future an exhibition with the Sorgente statue and the Pitcairn statue, one of the rarest cases of a Greek original and its Roman counterpart. This could shed new light on the dynamic relationship between the Greek originals, Roman copies, and Roman originals. As you know, this event is very close to my interest in Greek and Roman sculpture, and from my perspective, it represents a second, further step after the conferences called Pyril Marmo, organized here in 2009. Here I see several of the participants of that previous scientific event. The proceedings of the conference were enthusiastically and positively reviewed by foreign scholars. Among them, I'm pleased to mention and thank Brunil de Sismondo Ridgeway. I must also register, however, some in Italian scholarly community are showing a new interest towards polychromy in ancient times, considered as, I quote her words, the most revolutionary methodological approach to Greek sculpture, a tsunami in the archaeological discipline, much more important than style, formal analysis, and cultural context. Well, I respect this opinion and scholars who are actively working on this topic, but I think it is necessary to keep in mind that polychromy cannot give us alone significant and fundamental artistic and historical data. It is a tool, just one tool, maybe a plus, but we cannot deny validity to the stylistic and formal approach. I'm convinced that we must revitalize that interpretative paradigm, and for this reason, this conference can represent a clear answer to these new positivistic Italian trends. The colloquium is supported by the Scuola Normale Superiore and entirely funded by the Bank Monte dei Paschi di Siena. As in the previous occasions, I should like to warmly thank the Bank Monte dei Paschi for their cooperation and continued support to the scientific life of the Scuola. Without the technical expertise and intellectual stimuli of the Scuola Normale Superiore, this event would not have been possible. The staff, in particular Elisa Guidi, Riccardo Greco, Gisela Kiné, and Daniele Leccese, gave me logistic assistance and helpful cooperation. Before beginning with the Lectio Magistralis, I should like to warmly thank a special but shy person who supported me in the scientific preparation of the conference and provided me with precious suggestions and advice. Once again, she worked behind the curtains. Elena, grazie. Now, it is my great pleasure and honor to invite Eugenio Larocca for his Lectio Magistralis, la statua di Atena Niche della Fondazione Sorgente Group, un quadro di riferimento. Thank you very much. Thank you very much. Si sente, ora si. Ringrazio anche io in primo luogo Andrea Giardina e Gianfranco Adornato, che mi ha veramente spinto a realizzare questa giornata di studi, alla quale io credo veramente, perché dopo aver lavorato sull'Atena Niche sentivo in qualche modo la necessità di, come dire, di discutere su determinati temi di questa statua che iconograficamente crea molti problemi, prima di procedere a quella che dovrà essere in qualche modo la edizione principale dell'opera. E naturalmente in primo luogo devo ringraziare la Fondazione Sorgente Group. Qui c'è Valentina Nicolucci, che ringrazio moltissimo per l'aiuto, la disponibilità che ha sempre dimostrato durante tutto il mio lavoro. E il presidente, Walter Mainetti. La Fondazione Sorgente Group ha fatto un lavoro realmente egregio. Pensate che la statua era in vendita da un antiquario a Roma e senza l'intervento della Fondazione sarebbe il corso del rischio realmente che l'opera estremamente importante potesse andare in una collezione privata e quindi smarrirsi, perdersi in quel marasma di piccole collezioni private che si trovano all'interno delle case e che naturalmente nessuno mai potrebbe conoscere. In questo caso, entrando nella Fondazione Sorgente, noi abbiamo in qualche modo la possibilità di analizzarla, di studiarla e di vederla come abbiamo potuto fare con una eccellente mostra curata proprio da Valentina Nicolucci e dalla moglie di Walter Mainetti, Paola Mainetti, che ringrazio nuovamente molto per l'aiuto e il supporto. E veniamo quindi ora all'Atena. Cercherò di condensare il lavoro nei limiti del possibile ma dovrò essere in qualche modo un po' analitico per cercare di chiarire i termini della questione. La scultura, che doveva misurare un metro e quaranta o un metro quarantacinque circa di altezza, è in marmo pario della migliore qualità, il lichnites. Ecco qui alcune immagini della statua. Il braccio sinistro era sostenuto verso l'alto da un perno inserito entro un profondo foro a sezione circolare ma con taglio quadrangolare in superficie. Sui punti di frattura si osservano ancora tracce di ruggine e di malta in questa zona. Riuscite a vedere? Si vede? Bene. Probabilmente anche il braccio destro, che doveva essere poco scostato dal fianco e ad esso agganciato, come si potrebbe desumere dal foro quadrangolare all'altezza dell'anca, questo. Era retto in modo analogo, ma, a causa della grave mutalazione del marmo, non si vedono tracce di fori adatti allo scopo, qui in alto, tranne questo piccolo foro che però potrebbe essere anche più tardo. Altri fori, per la loro natura e posizione, sono funzionali alla redazione originale del monumento o a interventi di restauro eseguiti comunque in antico. Sul retro si segnala, sulla scapola sinistra, un foro rettangolare a taglio verticale, questo e questo, più profondo che largo. Dell'altro foro simmetrico, e anch'esso a taglio quadrangolare sulla scapola destra, restano tracce sulla superficie di frattura della spalla. Un foro assai più grande, e anch'esso a taglio verticale e parimenti profondo, ma assai più largo, con i bordi sporgenti e abrasi, è inserito sulla schiena. E' questo. Eccolo. Lungo il dorso e reseca la parte inferiore dell'egida. Adesso corrisponde sempre sul retro un altro foro, eccolo, quadrangolare di misura inferiore, poco al di sopra della frattura all'altezza delle cosce. Se i fori in alto erano certamente destinati alle applicazioni di ali in marmo o in metallo, e come si è visto si deve immaginare la presenza anche dell'altra ala in base all'analogo foro, visibile in traccia sulla frattura della scapola destra, il foro sulla schiena e quello in asse, in posizione sottostante, sembrano funzionali a un supporto della statua. A interventi di restauro seguenti si deve, invece, la maggior parte degli altri fori risultati di interventi di restauro. Vedete, qui ci sono un foro più piccolo, ce ne sono altri nella parte bassa, altri fori laterali. Sono tutti fori probabilmente destinati a un restauro della statua in epoca post-antica. L'impressione, in base al frammento superstite, è che la struttura fosse stata lavorata in un sol blocco di marmo, a esclusione delle braccia e delle ali, che, per la loro posizione, erano state applicate tramite perni. anche i serpentelli che decoravano i bordi delle egida erano applicati in metallo, ma sui fori ritorneremo più avanti. Vi è rappresentata una figura femminile, ancora librata in volo, ma in procinto di planare verso terra, con il panneggio fluttuante sul retro, guardate, si vede anche dalla veduta e dai tre quarti, lungo le cosce e le gambe ai soffi del vento. Il piede destro doveva già appoggiare al suolo, mentre il sinistro era poco più dietro e probabilmente poggiava solo con la punta. Indossa un morbido peplo attico di tipo chiuso, con rimbocco apoptigma allacciato alla vita. Le pieghe sull'apoptigma sono larghe e arrotondate, tendenti a un andamento simmetrico, assai meno rilevate al centro, dove compongono larghe ellissi ed archi di ellisse concentrici. Ai fianchi e sul le pieghe si addensano con maggiore effetto chiaroscurale, larghi sbuffi del panneggio pendono pesanti sopra la cintura, in particolare sui fianchi, dove la caduta della stoffa lascia scoperto il corpo nudo sotto le ascelle. Solo sul retro della figura sono visibili segni di una sorta di increspatura del panneggio, qui in questa zona, come vedete, ottenuta con una scalfitura a linee ondulate della superficie, secondo modi adottati per la rappresentazione di chitoni trasparenti. Sulle spalle della figura ricade un'ampia egida dal bordo moderatamente ondulato, i cui estremi, simili a un colletto, sono agganciati sul seno con una fibbia ricoperta da una testa di medusa, la faccia larga, i capelli con scriminatura mediana e due serpenti che scivolano lateralmente dalla chioma. Si vedono chiaramente i due serpenti che escono dalla chioma. Altri piccoli serpenti incorniciavano l'egida lungo tutto il suo bordo anteriore. E questa è la parte posteriore dell'egida. L'impostazione della veste tende a sottolineare l'anatomia del corpo e ne accompagna con eleganza il movimento discendente. Il braccio sinistro doveva essere sollevato verso l'alto. Poco si può dire purtroppo del braccio destro, che probabilmente era disteso lungo il corpo, forse con il solo avambraccio appena proteso, perché l'incasso rettangolare sul fianco destro, poco profondo, sembra essere funzionale alla sua corretta posizione. Sebbene le alternative siano molteplici, si potrebbe supporre che la figura reggesse nella mano sinistra una corona, già pronta a cingere con il certo un vincitore, mentre con la destra abbassata poteva reggere un ramo di palma, come sulla moneta che si vede qui di lato. Una palma in una mano e la corona nell'altra. Meno probabile che le reggesse con ambedue le mani un certo vegetale o una benda, perché nelle rappresentazioni della ceramica attica, ecco questa è la proposta di ricostruzione, perché normalmente appunto le nicai nelle rappresentazioni della ceramica attica reggono di solito le ghirlande con ambedue le braccia portate in avanti. Posteriore sotto il profilo stilistico all'Atena pertinente al gruppo del Marsia, opera di Mirone, e all'Atena Lemnia di Fidia, ambedue datate intorno alla metà del V secolo a.C., la statua sorgente mostra un certo grado di avanzamento formale anche rispetto alle peploforoi manici di specchio magno-greci. Guardate qui il modo in cui si disegna ai lissi concentriche il panneggio sulla pop-tigma. Oppure alla piccola peploforos del Museo dell'Acropoli, con la quale condivide la cedevolezza della stoffa e quel particolare modo di disegnare le pieghe sul petto appunto ai lissi concentriche, qui a destra. Eccole. Ereditato dalla scultura di tarda età severa, quando le vesti tendono a perdere la loro metallica compattezza. Ismini Triandis ha fissato la cronologia della peploforos dopo la metà del V secolo a.C., ma prima dell'Atena, raffigurata sulla metopa 32 del fianco settentrionale del Partenone, e prima dell'Atena Partenos, pertinenti a uno stadio più evoluto nella rappresentazione del peplo. La statua sorgente, sebbene cronologicamente anteriore, ha una certa sintonia anche con un tipo statuario nel quale è stato riconosciuto un prototipo della celeberrima Atena Ins, di cui qui mostro la replica di Venezia proveniente dalla Grecia, originale della fine del V secolo a.C., è la ricostruzione del prototipo dell'Atena Ins, del Museo dell'Acropoli di Atene, con un frammento del panneggio ancora conservato, alla quale si accosta per apparente semplicità del panneggio, per gli sbuffi della poptigma ricadenti sulla cintura e principalmente per il modo di applicazione dell'egida a mantellina intorno al collo e sulle spalle. Da essa si differenzia invece per una maggiore morbidezza del panneggio e per un trattamento delle pieghe meno taglienti e spigolose. La statua sorgente è stilisticamente anteriore anche alla figura femminile in marmo pentelico, forse un'aura, nella quale è stato riconosciuto con un certo grado di verosimiglianza uno degli acroteri del frontone orientale del Tempio di Ares nella Gorà di Atene. Tra le due sculture si riscontra una certa somiglianza non solo della postura generale, ma anche in taluni modi di caratterizzazione del panneggio, ad esempio nella disposizione ai lissi concentriche delle pieghe della veste visibili sotto l'apoptigma. Guardate qui, se riesco a mostrare la freccia, in questa zona. Malgrado i suoi caratteri conservativi, secondo la maggioranza degli studiosi, l'acroterio risulta coevo, questo, alla nicche di Paionios, che è datato, in base all'iscrizione di Deidica, intorno al 425 avanti Cristo. E qui vedete la nicche di Paionios a fianco alla nostra statua sorgente. La ben motivata datazione dell'acroterio entro il medesimo decennio, 430-420 avanti Cristo, posteriore al cantiere partenonico, ma ancora lontano dagli esperimenti della balaustra del tempietto di Atenaniche, e la dimostrazione tangibile di quale attenzione si debba porre nello stabilire una griglia cronologica per le opere realizzate in questo cruciale periodo dell'arte greca. La statua sorgente è anteriore anche all'Atena su un alto rilievo del Museo di Basilea, vista come se stesse fluttuando in aria. Ernst Berger dice che die Götting erscheint wie ein eben erangeflogene nicche. Opera per molti versi impenetrabile, l'Atena non è più considerata originale greco di V secolo avanti Cristo, ma prodotto di maestranze neoattiche. Se ciò fosse vero, ma sospendo per il momento il giudizio per non aver visto l'opera da vicino da molti anni, il suo interesse sarebbe perciò più iconografico che stilistico. La qualità dell'opera e i confronti tendono a confermare che la statua sorgente, eseguita in magnifico marmo pario, sia il prodotto di maestranze attiche, le quali adoperano spesso il marmo insulare per sculture di particolare impegno. Lo sottolinea per contrasto un'interessante affinità della statua, più iconografica che stilistica, con la nicche pertinente alla decorazione frontonale del Tempio di Apollososiano. Come sempre, le cose per una strana circostanza convergono. Uno studio iniziato negli anni settanta era dovuto, non lo so, alla fortuna o al caso che io dovessi occuparmi anche dell'Atena, dell'Ateneniche, ma indubbiamente iconograficamente le due statue si assomigliano. Iconograficamente, non stilisticamente. Le sculture, appunto, eseguite nel quinquennio 435-430, io parlo appunto del frontone dell'Apollososiano, in una bottega insulare paria, al corrente delle novità partenoniche di una fase precedente alla diffusione dello stile ricco, risentono dell'influenza attica, ma attiche non sono, per un diverso trattamento del panneggio e dell'anatomia dei corpi. Rispetto alla nicche, la statua sorgente, che dichiara invece una più esplicita componente attica, ha un'elaborazione più spumosa dei rimbocchi del peplo ricadenti sulla cintura e i dorsi delle pieghe assai meno schiacciati. Simile tuttavia il disegno complessivo delle pieghe sul torso e sul ventre, in ambedue i casi memore ancora della tradizione severa. E mostrando a fianco queste due opere, non posso fare a meno di ricordare e di ribadire a chiare lettere la differenza esistente tra iconografia e stile. Ed è un problema nel quale io mi sento sempre in dovere di richiamare l'attenzione. La statua sorgente è inquadrabile nel medesimo periodo e opera pienamente consapevole delle innovazioni formali scaturite dal cantiere partenonico ormai avanzato, ma non dei suoi risultati finali, quello per intenderci delle stoffe trasparenti che si sciolgono come rivoli d'acqua sulla superficie dei corpi. Il panneggio non nasconde interamente il corpo e in determinati casi, al seno e in modo prevalente sulle cosce, ne accompagna e ne imposta con precisione le forme, funzionale all'effetto della figura che plana verso terra. Ancora più sorprendente è il modo in cui sono percepiti il petto e i fianchi nudi attraverso le aperture laterali del peplo, tra le morbide pieghe che rigadono con fine eleganza sopra la cintura. L'ampio respiro compositivo e la maturità di concezione, la qualità sobria della lavorazione, sono in sintonia con le tendenze artistiche attiche del terzo venticinquennio del quinto secolo a.C. Mi sembra comunque che l'equilibrato disegno e lissi concentriche sulla poptigma della statua sorgente sia un elemento ereditato dalla tradizione severa e qui magistralmente rinnovato. Per la scultura, un arco di tempo compreso tra gli anni precedenti e seguenti, il 430 a.C., potrebbe essere preso in seria considerazione. Della statua sorgente è conosciuta da tempo una replica in marmopario, l'Icnites, detta Nike Pitcairn, del suo proprietario di pari misura, ma in migliore stato di conservazione, ora nel Glencairn Museum presso Philadelphia. Ecco qui le due statue a confronto. A sinistra la nostra Nike sorgente, a destra la Nike Pitcairn. Qui di fronte, nella veduta laterale, nella veduta di retro, altra veduta laterale, una veduta di tre quarti. Le statue sorgente Pitcairn, fin dove è possibile giudicare a causa del loro stato di conservazione, corrispondono bene in quasi tutti i dettagli, ma ci sono delle notevoli differenze nella redazione finale, dovute ovviamente a delle variazioni. Tanto è vero che non potrei parlare di copia realmente, ma piuttosto, seguendo un termine italiano, di replica. Non è neanche una variante, ma è una replica. Le statue, dunque, la statua Pitcairn aveva collo e testa, mani e piedi lavorati a parte e applicati separatamente, mentre nella statua sorgente il collo e verosimilmente la testa erano lavorati nel medesimo blocco di marmo. Gli editori hanno proposto che la figura reggesse con ambedue le mani un certo vegetale di bronzo dorato, ma ormai possiamo dire, in base alla statua sorgente, che l'ipotesi debba essere più opportunamente verificata. La statua Pitcairn presenta, rispetto alla statua sorgente, una maggiore compressione della zona superiore del seno, qui. Guardate, in questa zona. È più compressa, più schiacciata. Nel punto dove leggi da Mantellina si dispone in posizione più obliqua rispetto alla statua sorgente, una soluzione forse obbligata per incassare meglio nel torso il collo e la testa, e accentuata dalla differente posizione della statua nella sua esposizione odierna. C'è una differente disposizione delle due statue rispetto all'asse centrale. La trattazione del panneggio è più analitica, tendente al calligrafico. Lungo le gambe il tracciato delle pietre, pieghe, è fin troppo schematico, specialmente in questo punto. Guardate. È in determinati casi poco organico. Oltre all'interpretazione rigida e accatemica nella trattazione delle pieghe, colpisce la variazione formale nell'increspatura della stoffa. Qui è tutta increspata e qui naturalmente no. Priva di riscontri sui pepli delle sculture attiche di V secolo a.C. e consueta al contrario nella rappresentazione di Chitoni e Chitonischi dall'età arcaica in poi. Le amazzoni di Efeso e particolarmente l'amazone capitolina presentano una simile caratterizzazione. Ecco, qui faccio vedere semplicemente come anche solo la niche sorgente presenti una sorta di vibrazione della superficie del peplo solo nella parte posteriore, che potrebbe essere in qualche modo avvicinata, ma è un po' un'altra cosa. Ecco, e questa è la rappresentazione del Chitonischi dell'amazone capitolina a confronto con il vibrato panneggio della parte posteriore della niche sorgente. Nella statua sorgente si riscontra, ripeto, qualcosa di simile appunto solo nella veduta di retro e anche in questo caso non è possibile comprenderne esattamente le motivazioni. Per esempio, perché sul retro e non nella veduta anteriore? Si potrebbe pensare anche a un intervento di età romana, ma devo dire non lo credo, perché non si vede una differente mano che incide sulla forma. Malgrado queste discrepanze, le affinità tra le due opere tale da doverle obbligatoriamente pensare come correlate. Il confronto risulta tuttavia, a favore della statua sorgente, superiore per l'omogeneità di invenzione, per trattamento del panneggio, per freschezza di esecuzione, per libertà di lavorazione, rispetto all'esecuzione accademica della statua Pitcairn. Ci sono insomma tutti i presupposti perché la statua sorgente possa essere considerata l'originale stesso da cui è stata tratta con alcune variazioni la replica Pitcairn. E, inutile dirlo, dovete ben immaginare quale sia l'importanza che abbia questo raffronto perché, non dico per la prima volta, ma quasi per la prima volta, abbiamo la possibilità di mettere a confronto un originale greco e una coppia romana, cosa in effetti molto rara. Ci sono altri esempi, i rilievi di Eleusi e vari altri esempi, ma non sono molti, sono veramente molto rari. La statua sorgente sembra al momento distinguersi dalla statua Pitcairn per la presenza dei fori alle spalle e sulla schiena. Scartata l'ipotesi iniziale di Carpenter che la statua Pitcairn avesse ali applicate in materiale leggero, pensava al legno o al bronzo dorato, Irene Baldromano, in base a un esame più accurato dei fori per i perni ancora visibili nei punti di frattura delle braccia, ha dichiarato che la statua fosse priva di ali e che i perni avessero la funzione di reggere esclusivamente le braccia. Certo, la lettura degli agganci non è di assoluta chiarezza, né dirime tutte le questioni, è tuttavia assicurato che essi non siano collocati all'altezza delle scapole, come sarebbe stato appropriato per il tipo statuario di Nike e come avviene nella statua sorgente. Ma su questo speriamo di poter sentire domani le osservazioni stesse di Irene. Ora, il confronto con la Pitcairn permette di comprendere in modo migliore la postura delle gambe del tipo statuario. La figura, colpita dal vento, stava planando, forse verso uno sperone roccioso che doveva fungere da supporto. Reputo verosimile che l'ampia onda del peplo fluttuante dietro le gambe per la spinta del vento permettesse una più articolata adesione della scultura alla base. La postura è perfettamente in regola con un'immagine di Nike vista nel momento in cui poggia la punta del piede destro per terra, mentre la sinistra è ancora spostata di retro. Fin qui le analogie tra le due statue sono solide. Ma perché la statua sorgente ha quei fori alle spalle e sulla schiena che la statua Pitcairn non ha? Se pertinenti tutti alla ridizione originale, si dovrà supporre che la statua sorgente avesse le ali e che fosse collegata alla base anche attraverso un aggancio trasversale, qualcosa affine a un tronco di albero radicato alla roccia, un cui ramo fungesse da perno. Naturalmente potrebbe essere avanzata la possibilità che i fori siano invece dovuti a un'integrazione più tarda, praticata solo al momento del trasferimento della statua dalla sua sede originaria in una nuova sede. Ma in questo caso si apre un altro quesito. Dato che la statua Pitcairn è una replica di età antoniniana, vorrebbe dire che le integrazioni alla statua sorgente siano state realizzate dopo l'età antoniniana, ma quando e perché, cosa devo dire che reputo abbastanza improbabile. Rivolgiamoci ora all'iconografia del tipo statuario, di modo da comprendere anche, se possibile, il significato dei fori alle spalle e sulla schiena della statua sorgente. Malgrado l'egida che domina sul petto, l'impostazione della statua Pitcairn e la supposta presenza delle ali avevano indotto Rhys Carpenter a riconoscervi una replica della niche che l'Atena Partenos di Fidia reggeva con la mano destra. Ernst Berger, sulla stessa lunghezza d'onda, la considerava copia da un originale greco del grado formale del frontone orientale del Partenone. Più recentemente Stuczynski, abbassandone non poco la cronologia, ha proposto invece di riconoscervi la niche sulla mano della statua acrolitica dello Zeus di Cirene, un'elaborazione del colosso Criso Elefantino di Fidia eseguita durante il Principato di Commodo, a seguito del restauro del Tempio a lui dedicato. Le ipotesi di Carpenter e di Stuczynski sono difficilmente sostenibili. Parla sfavore il fatto che nessuna niche di cui sia accertata la pertinenza al corpus delle sculture di V secolo a.C. sia stata raffigurata collegida, che è, al contrario, attributo caratteristico di Atena e di Zeus, le divinità di cui Nike è comunemente ancella. Nella ceramica attica, Nike compare talvolta con le armi di Atena, mai collegida. Così sul cratere a calice del pittore di Nikias a Richmond, che vedete qui in diapositiva, dove con le bretelline incrociate al seno regge lancia e scudo di Atena, intenta a raccogliere tra le braccia erittonio appena nato. Oppure ancora, sul cratere a calice del pittore di Cecrope ad Adolsec, dove regge elmo e scudo di Atena. Sembrano in apparenza divergere dalla norma alcune raffigurazioni di Nike sulle quali, all'incrocio sul petto delle bretelline, destinate a stringere la veste al corpo, compare talvolta una testina di Medusa. Ma tale soluzione, che nasce probabilmente dalla moda di disporre fibbie e figurate sul punto di giunzione delle scinghie, non risulta essere di età classica e comunque non si accompagna mai alla presenza di un'egida completa. La testina di Medusa diventa a questo punto un elemento decorativo che connota Nike come a cella di Atena o di Zeus, ma non rende la sua funzione pari o alternativa a quella delle principali divinità olimpiche. Il primo esempio documentato con relativa certezza, il Gorgoneion sul petto della statua colossale di Nike da Ierapitna, opera di Damocrates di Itanos, risale al terzo venticinquennio del secondo secolo a.C. Ecco la statua che ora si trova a Venezia. Si può a questo punto scartare l'ipotesi che la statua sorgente e la replica Pitcairn raffigurino una Nike. Nella più recente bibliografia ha avuto maggiore fortuna la proposta di Brunilde Sismondo Rigioi, che vorrei salutare e ringraziare per il lavoro svolto in questi anni, e di Alexandra Gulachi, poi ripresa da Irene Bald Romano, di considerare la statua Pitcairn un'opera classicistica raffigurante Minerva Victoria, una variante romana di Atena Nike impostata, secondo una formula iconografica, senza riscontro in età classica. Anche qualora priva di ali, secondo Irene Bald Romano, codesto riconoscimento non perderebbe la sua validità, giustamente, sia perché la statua Pitcairn mantiene comunque lo schema iconografico di una figura in discesa planare colpita dal vento, sia perché erano aptere non solo la statua di culto ateniese, l'Oxohanon di Atena Nike, ma anche le sue raffigurazioni sul freggio della balaustra che circondava il suo tempietto sull'acropoli. Ecco qui Atena seduta sul freggio della balaustra del tempietto di Atena Nike e si potrebbe aggiungere, a conforto di tale ipotesi, sul già citato cratere a calice del pittore di Cecrope Ad Adolfseck, che secondo una lettura di una iscrizione dovrebbe raffigurare Nikatena, cioè Nike-Atena, Atena-Nike, naturalmente anche in questo caso senza ali. Si tratti a meno o meno di un originale greco di V secolo a.C., anche l'Atena ad alto rilievo di Basilea potrebbe rientrare in via d'ipotesi in questo gruppo di immagini. Se la riscoperta della statua sorgente impedisce, a mio parere, di considerare il tipo statuario una creazione di età romana derivata da modelli classici, non credo si possa dubitare sul fatto che, a parte la presenza o meno delle ali, la divinità raffigurata nella statua sorgente e nella sua replica Pitkern sia Atena-Nike, come hanno correttamente inteso la Riguei e la Baldo Romano, e non una Nike. Ma prima di procedere su questo argomento è necessario, non dico risolvere perché è impossibile, ma porre alla questione circa la originaria collocazione della statua sorgente. Non si trattava di una statua frontonale, lo impedisce lo sviluppo volumetrico della scultura sul retro. Anche l'attacco lo impedisce. Il foro centrale alla schiena non può essere considerato perciò destinato all'applicazione a una parete frontonale, come nel caso della Nike del Tempio di Apollo Sossiano. Non è neppure, secondo il mio parere, una statua acroteriale. Non è tanto un problema di misure, anche se la statua appare un po' troppo grande per un acroterio di un tempio attico, probabilmente, di V secolo a.C., che non fosse sovradimensionato come il Partenone. È piuttosto un problema iconografico. Se si tratta di Atena o di Atena-Nike, e non di una semplice Nike, una collocazione acroteriale su un tempio di età classica, verosimilmente attico, urterebbe contro la più comune regola che non mostra immagini di divinità olimpiche come acroteri. C'è qualche rara eccezione, per esempio la statua acroteriale di Zeus a Olimpia, ma sono rarissime. È comunque non documentata in età attica, in età classica. È ben difficile, inoltre, che in età romana fossero state realizzate repliche di statue frontonali o acroteriali che, per quanto si possa supporre, non rientravano nella casistica dei nobili a opera. Non lo sono neppure i pendant dell'aura del Palatino e del gruppo detto delle fedrismos dei mosei capitolini, rinvenuti l'uno nella villa di Erode Attico a Ivi Lucu, l'altro a Tegea. In ambedue i casi, i romani hanno trasferito nella capitale non tutti gli acroteri del medesimo tempio, ma solo uno o due. Ne deriva di conseguenza che la statua sorgente fosse un anatema, probabilmente collocato, come la nicche di Paionios, su una colonna o su un pilastro di una certa altezza, ma non risolve, ahimè, la questione se la statua sorgente avesse o meno le ali. Il culto di Atenaniche, relativamente poco diffuso, è attestato prevalentemente sull'acropoli di Atene, dove era il suo santuario più celebre, risalente forse a età micenea, con una statua di culto, uno xoanon arcaica, che la presentava priva di ali. Ecco qui l'area del bastione prima della ricostruzione post-menesicle, con A, il primo naiscos in poros, dedicato ad Atenaniche, e nel punto A, la base della statua di culto. Vediamo qui la base della statua di culto, che deve essere rimasta nella stessa sede, quindi deve essere la base della statua di culto più antica, che poi è stata inglobata nel sacello in poros, che risale probabilmente a un periodo compreso tra Maratona e l'età di Cimone. Non sappiamo bene di che periodo esattamente. Ecco qui nuovamente la base, al cui interno, come vedete, erano state inserite tutte, piccole statuette ex voto a tau di VII secolo a.C. Quindi probabilmente hanno inserito all'interno della base i resti di una favissa al momento della ricostruzione del sistema. Ecco qui la ricostruzione del naiscos in poros dovuta a Giraud, il quale propone la ricostruzione di un oxoanon stante, in piedi, come credo che sia verosimile, contrariamente all'ipotesi di Marc, che pensava una statua seduta, appunto come è stata reinterpretata in questo disegno ricostruttivo. Secondo Pausania, che la chiama Nike Apteros, gli ateniesi, desiderando che restasse permanentemente nella loro città, l'avevano privata delle ali. Secondo il periegetta Eliodoro, l'oxoanon, oltre a essere Apteros, aveva un elmo nelle mani sinistra e una melagrana nella destra. A giudicare dall'iconografia, di cui alcuni rilievi votivi dell'acropoli ateniese, malgrado talune differenze iconografiche, potrebbero offrire un'idea, sono rilievi messi in luce da Luigi Beschi, in un straordinario articolo degli anni Settanta. Eccola qui la statua di culto di Atenaniche, con il Legida e con il Polos sulla testa. E queste dovrebbero essere le tre Carites. Ma, diciamo, come vedete, tra l'altro, una statua di culto che probabilmente era di tipo ctonio, cioè usciva dalla terra, come si vede anche da un'altra rappresentazione più tarda, di IV secolo a.C., dove la dea, seduta, compare a fianco della sua statua di culto, che anch'essa non è, come si è pensato, tagliata e non raffigurata per la presenza di una sorta di trapeza davanti. Ma, io credo, sia la raffigurazione della dea stessa che esce come divinità ctonia dalla terra. E quindi questa non dovrebbe essere una trapeza, ma probabilmente un elemento della base della statua. Ma su questo poi ritornerò in altra sede. Secondo Pausani, appunto, Aptors, va bene, doveva dunque trattarsi di una dea a carattere ctonio, quindi esce dalla terra, ma connessa con la fertilità, la melagrana, con la guerra, l'elmo, e con la pace. L'elmo non è sul capo, ma in mano. Una pace, si deve immaginare, sempre connessa con una vittoria bellica, o comunque ottenuta attraverso una supremazia militare riconosciuta. Motivo augusteo, ma che naturalmente ha, nelle epoche precedenti, una iperlunghissima storia. Poco dopo, il 426-25 a.C., come sappiamo da una serie di iscrizioni straordinarie, su cui ora non posso dilungarmi perché non c'è tempo, a seguito di campagne militari vittoriose nella Grecia nord-occidentale, gli atteniesi sentirono l'esigenza di dedicare ad Atena-Niche una nuova statua di culto, un'agalma. Non sappiamo se fosse anch'essa Apteros, né sappiamo se fosse destinata per il nuovo tempietto della dea in marmo attribuito a Callicrates. Allora in via di costruzione l'inguellato meridionale dei propri lei, si potrebbe supporre che fosse conforme sotto il profilo iconografico ad Atena-Niche seduta, come raffigurata sui rilievi della balaustra, priva di ali, o, come abbiamo già visto, sul cratere del pittore di Cecrupe ad Adolfsec. Di Atena-Niche, venerata Megara ad Eritre, e in base a un'iscrizione del III secolo d.C. a Rodi, non sappiamo praticamente nulla. Solo a Olimpia era una statua di Niche, realizzata dal grande scultore Calamide, a imitazione della statua di culto ateniese, quindi Apteros. Ma è proprio l'insistenza sul mito etiologico del taglio delle ali a far supporre che ci fossero immagini di Atena-Niche con le ali. Se le hanno tagliate, vuol dire che Atena-Niche aveva le ali. Si è detto per inciso, nel IV secolo a.C. Demostrani dice che alcuni ladri avevano rubato le ali di un'Atena-Niche. Poi uno scolio dice che era di un'Atena-Niche. lo scolio dice che si trattava di una statua di Atena-Niche e quindi praticamente avessero rubato le ali alla statua di Atena-Niche. Naturalmente anche qui è un problema molto complesso sul quale è difficile poter dare una risposta precisa. In realtà sono conosciute non poche raffigurazioni di Atena-Lata, dall'età arcaica fino all'età romana, con un numero particolarmente consistente in Etruria. Il motivo figurativo si riscontra spesso in ambiente ionico, sui sacrofagi clazomeni, su una idria rinvenuta a Cere con la raffigurazione d'apoteosi di Eracle e naturalmente sul freggio del tesoro dei Sifni a Delfi, nel quale la dea, unica ad essere raffigurata con le ali, è in procinto di dirigersi su un carro tirato da cavalli alati, verso Troia per partecipare insieme con Afrodite ed Era alla gara di bellezza. Atena-Lata è poi rappresentata in età precoce sul celebre Pitos del Museo di Tinos, con la nascita di Atena armata dalla testa di Zeus, anche lui alato, e su una terracotta dedalica rinvenuta del santuario a lei dedicato sul timpone della motta a Francavilla Marittima. Sui vazi attici a figure nere e su manufatti etruschi di vario genere, la dea svolge un ruolo di sostegno ai suoi eroi più amati, Eracle, come sulla già citata idria ionica, oppure su un'anforetta attica, probabilmente di produzione locale, di tipo attico, ma di produzione locale, da San Biagio alla Venella a Metaponto. Oppure Perseo, come su una foretrusca figure rosse a Monaco di Baviera, Ottideo, l'eroe dei sette contro Tebbe, cui Atena era pronta a offrire l'immortalità prima di arretrare inurridita di fronte al suo irriverente comportamento contro il morente avversario Melanippo, come sul rivestimento di Colmen del Tempio A di Pirgi. Onne preserva piesitosamente il cadavere portandolo fuori dalla mischia. Appare da sola, duplicata in due suoi aspetti, su uno schifo sattico a occhioni di orvieto, seduta mentre si volge dietro con un uccello a testa femminile, poggiato sulla punta di una delle ali, su un'anfora attica a figure nere. Particolarmente significative sono infine alcune raffigurazioni di Atena Lata e Conegida su emissioni di età tardoclassica ed ellenistica, per noi più interessanti sotto vari aspetti, ad Atene in alto, su una dracma dell'età di Conone, fine quinto e inizio IV secolo a.C., dove compare a mezza figura un personaggio femminile alato con l'elmo sul capo e con un trofeo eccolo. E' probabile che si tratti proprio di Atenaniche, con le ali. in Beozia, a Siracusa, su un magnifico statere coniato, eccolo qui, coniato da Agatocles tra il 310 e il 304 a.C. in Bitinia, su monete bronze e coniate da Prusia I, in Siria, su monete di Demetrio II. Come soggettiva Martin Nilsson, l'immagine di Atena Lata, forse di tradizione mesopotamica, potrebbe essere la raffigurazione di una rapida epifania, la cui memoria era illustrata nell'Eliade nell'Odissea dall'apparizione degli dèi sotto forma di uccelli. Atena è spesso associata a uccelli e in alcuni casi era figurata su vasi attici come un uccello con testa umana, forse una aethuia, un gabbiano, come ha proposto Carlo Anti, ricordando che a Megara, sull'altura rocciosa dove si diceva che fosse stato seppellito l'eroe Pandion, era venerata un'Atena marina con la medesima epiclesi aethuia. Ma cosa intendessero rappresentare i greci con la formula di un'Atena alata? La risposta più ovvia è che volessero sottolineare simbolicamente l'essenza sovrumana, la velocità d'azione, l'apparizione fulminea e risolutiva della dea che annuncia con la sua stessa presenza il pieno successo bellico o la supremazia dei suoi eroi prediletti. Naturalmente non tutte le immagini si sottomettono a questa lettura, ma un certo numero vi si adatta perfettamente. Sembrerebbe implicito quando, a motivo della sua stessa apparizione in battaglia, oppure nel momento di massima tensione della lotta di eroi contro esseri mostruosi, massimamente rifulge la gloria dell'impresa compiuta. Ma c'è da dubitare sull'effettiva bontà di questa sola lettura, perché Atena e altre personificazioni alate compaiono anche durante il trasporto del cadavere dell'eroe fuori della mischia, uno dei modi in cui gli dèi dichiaravano la loro benevolenza divina nei confronti di alcuni mortali. Quasi a sottolineare la rapidità del prodigio, la sparizione del corpo dal campo di battaglia per preservarlo intatto e privo di mutilazioni per i riti della sepoltura. In fin dei conti, rappresentare una divinità con le ali al momento della sua epifania o della sua improvvisa e miracolosa apparizione è uno dei modi più semplici per sottolinearne la superumanità. È difficile non riportare tale funzione, anche se non sempre, al messaggio di vittoria che la Dea garantisce con la sola sua presenza. D'altronde è proprio questo il motivo per cui gli Atenesi, secondo la leggenda, le tagliano le ali alla Dea per impedirle di abbandonare il suo avamposto sull'acropoli atenese. Possiamo a questo punto tirare le somme. Eseguita intorno al 430 a.C., ci sono ottime possibilità che la statua sorgente rappresentasse un'Atena niche, ma in uno schema iconografico divergente da quello della statua di culto sull'acropoli atenese. La Dea è raffigurata mentre plana dolcemente verso terra, le vesti ancora spinte dal vento. Con la mano sinistra sollevata reggeva la corona destinata per il vincitore della battaglia e con la destra abbassata e affiancata al corpo reggeva probabilmente un ramo di palma, altro segno di vittoria o, con minore verosimiglianza, un caduceo, simbolo dell'accordo tra le parti. Secondo una tradizione che risale ad età arcaica e che, simile a una corrente sotterranea, emerge a intermittenza lungo l'arco di molti secoli, la Dea ostentava oltre legida, destinata a incutere terrore nelle schiere nemiche, la presenza di Ali, di modo che fosse accentuata visivamente l'immagine della sua rapida apparizione a fianco dei suoi protetti. Diversamente da Atenaniche Aptera, privata delle Ali perché fosse immobile ed eterno baduardo dell'assai ben difesa città murata contro eventuali sortite belliche, Atenaniche Alata accompagna l'esercito ateniese lontano dalla patria e ne segue con sollecito dinamismo le favorevoli sorti. La Dea non può essere che alata perché non difende la città, ma è garante con attiva e fervida partecipazione delle vittorie ateniesi fuori del territorio attico. Mi riferisco ad Atene e alle sue conquiste perché Atenaniche sembra avere avuto nella città una speciale valenza culturale e politica, di gran lunga maggiore rispetto ad altri importanti centri urbani della Grecia. Inoltre, la statua sorgente, per ragioni stilistiche, è quasi certamente di produzione attica. Non per questo, tuttavia, si può respingere l'ipotesi che la scultura fosse stata eseguita da un artista attico per conto di un'altra città, anche se personalmente lo reputo improbabile. Si può naturalmente immaginare, in seconda istanza, che la statua fosse invece anch'essa aptera e che le ali le fossero state aggiunte in età romana. Mi sembra però difficile che ciò possa essere avvenuto dopo la realizzazione della statua Pitcairn, che, essendo priva di ali, ma su questo appunto chiederemo poi a Irene Baldromano altri lumi, sarebbe una replica della versione originale. Dedicata forse in occasione di una folgorante vittoria ateniese nel terzo venticinquennio del V secolo a.C., e si potrebbe pensare all'avvio della guerra del Pieloponneso, con i primi successi a Egina, o meglio, a Naupatto, che consentì agli ateniesi il controllo del Golfo di Corinto. La statua sorgente poteva essere una statua votiva collocata su una colonna o su un pilastro, come la celebra niche di Paionios, però nell'ambito di un santuario attico o di ambiente filoateniese, oppure di uno dei grandi santuari panellenici. L'opera doveva avere una certa rinomanza, se in età imprecisata, in età augstea forse, riadoperata in funzione delle vittorie di Ottaviano Augusto a Naolocos, o meglio, ad Azio? Essa fu trasferita dalla sua sede originaria a Roma, dove, avendo nel frattempo subito gravi danni a causa del lungo periodo di permanenza all'aperto, fu soggetta a interventi di restauro. Quale sia stata la storia della scultura in età imperiale, non è possibile dire, tranne che in età antoniniana se ne ricavò una replica, abbastanza fedele nei dettagli, ma lontana dalla purezza esemplare della statua sorgente, che, pur gravemente mutilata, risplende per le sue straordinarie qualità formali. In età postantica, quando fu rinvenuta ormai ridotta a un frammento, la statua dovette subire una ben più radicale operazione di restauro, che comportò l'applicazione di una nuova testa delle braccia, delle gambe e di alcune parti del panneggio. È difficile dire perché e quando la scultura sia stata liberata dalle superfettazioni che, se ci hanno privato dei modi di interpretazione che di essa era stata offerta, permettono tuttavia di ammirare il frammento supersite nelle condizioni ottimali. Grazie e scusate per la lunghezza. Ringraziamo il relatore, grazie a Eugenio Larocca per la presentazione ampia e ricca di spunti di riflessione e aprirei la discussione ai mille aspetti e varie questioni che sono venuti alla mente a ciascuno di noi. No, abbiamo tempo per la discussione adesso, per questioni specifiche legate alla relazione del professor Larocca. Domani avremo discussione sulle altre relazioni e sulla lezione magistralis, quindi abbiamo tempo abbondante per discutere e per aprire e introdurre anche questo splendido capolavoro dell'arte classica nella discussione sulla scultura degli originali in Grecia e della presenza degli originali poi a Roma. Purtroppo poi molto poco sappiamo di questi contesti. Prego. Olga. Sì, la statua, per quanto io possa sapere, viene da una collezione romana ed era in una collezione, a giudicare dai nomi, una delle grandi collezioni romane dei principi romani di età rinascimentale, post-rinascimentale. Quindi ha un pedigree ottimo alle spalle, anche se purtroppo non sappiamo attraverso quali canali sia stata tolta dalla sua sede originaria e portata quindi nel mercato antiquario. Però viene da Roma. È una statua che ha un pedigree romano. Anche in inglese perché posso comunicare le idee complesse in meglio in inglese, credo. The cuttings in the right arm correspond to a broken surface around the right arm, which seem to indicate they were not designed for an original join, but are a restoration of the right arm in that position. A left arm. Sorry, left. Left arm, yes. Even in English I can't do that. So, would you agree with that? So that would be your Roman restoration of an elevated left arm following the original. But then it seems that the lower legs were never restored. And so I was wondering about the phasing, if it was in a renaissance collection or a post renaissance collection, it was never given legs. Is that correct? Naturalmente non mi sono potuto dilungare, proprio per la lunghezza della relazione, su tutti gli interventi di restauro della statua. Io credo personalmente che la statua in origine sicuramente aveva la testa applicata sullo stesso blocco di marmo. Le braccia direi di no, perché possiamo rivedere un attimo le immagini, forse è la cosa migliore. Allora, ecco, dunque, qui le braccia, perché una, un braccio era sollevato e realizzare con lo stesso blocco di marmo anche il braccio sinistro mi sembra, mi sembra un po' difficile, ma non posso dirlo perché questo foro potrebbe essere anche… No, non il foro, parlo della preparazione, di torno al foro è rotto, non è tagliato… Sì, no, no, è rotto, sì, 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 sì. Non è preparato per avere un… è tutto stato completamente abraso, la parola italiana è abraso. Ma naturalmente non possiamo dire, io credo che questo sia stato fatto quando in epoca rinascimentale hanno ricostruito la statua, ma che originariamente il braccio fosse… È verosimile proprio per la posizione del braccio alzato, ma non si può capire obiettivamente se quello che si vede, il foro, è un foro antico o moderno. Questo non si può dire. E così anche nella parte di sotto, la parte sottostante, sicuramente ci sono dei lavori a bocciardatura per applicare un altro pezzo di marmo. Ma anche in questo caso non si tratta di un restauro antico, ma di un restauro rinascimentale. Perché non è fatto secondo quella logica e quella qualità che è proprio caratteristica della cultura greco-romana. Un'altra cosa, io credo che il braccio destro fosse abbassato perché, come vedete, c'è questo foro qui che sembra proprio in qualche modo finalizzato alla presenza del braccio destro. Che doveva essere, quindi, più affiancato, ma doveva reggere qualcosa. E no, no, scusate, si è spostata l'immagine, eccola qua. Ecco, guardate qui, praticamente. Quindi, a questo punto, io credo, è una mia ipotesi, che il braccio fosse lungo il fianco destro e reggesse qualcosa. Questo qualcosa potrebbe essere proprio la palma, secondo l'iconografia di V secolo a.C., più diffusa, tra l'altro, per un'immagine vittoriosa di Nietzsche. Perché questa è chiaramente, secondo me, una immagine di Nietzsche vincitrice. Deve essere per una vittoria, per una grande vittoria bellica, io credo. Non può essere la vittoria di un atleta. Non lo credo, mi pare inverosimile. Due domande sulla conferenza, per non anticipare quello che poi sentiremo anche domani. L'Oxonon di Atenaniche, che nasce, secondo lei, dalla Terra, in base a quelle immagini che abbiamo visto. C'è quella strana struttura davanti, che qualcuno ha interpretato come trapeza, una sorta di trapeza. E perché nasce dalla Terra, secondo lei, in quelle immagini? È un po' strana l'immagine, non è ben decifrabile. Potremmo anche vederla? Posso fermare un attimo? Certo. Ecco. E come poi ha detto, su questo dirò di più, se può dire qualcosa di più su questa cosa. Un altro dettaglio che incuriosisce me, ma credo che incuriosisca molti di noi, sono le piegoline dietro al problema principale. Queste sono due domande. La terza, invece, è un'osservazione. Un'osservazione derivante, diciamo, da un'osservazione casuale mia ieri sera. Ho sfogliavo per un'altra cosa e mi sono imbattuto, come spesso succede, in una cosa che è un classico. Ho visto che forse il miglior confronto in assoluto per l'Atena-Niche deriva da, si può individuare in una statua, all'Ocri, che faceva parte del frontone, posizione al centro, con i due. Sì, qualcuno l'ha rimessa all'interno del frontone, datata al terzo e venticinquennio del quinto secolo a.C., tra i due cavalieri che scendono. Tanto simile che già l'editore, almeno non l'editore principale, ma nel 1999, ho visto che nel ruolo di Teilungen era stato posto a confronto con la copia, sino allora conosciuta, della nostra. Quindi questo può essere un ulteriore, non so se lo devo ancora vedere bene, perché l'ho vista proprio veramente, sembra quasi avere lo stato di citazione, e questo non ci sorprende, perché ce l'ha insegnato lei con l'Atena del Tempio di Apollo Sosiano, che recepisce immediatamente l'Atena Parthenos. E questo è molto interessante, perché conferma che, in qualche maniera, potrebbe confermare, perché, ripeto, bisognerebbe vederla, che quello ha già lo statuto di Opus Nobile, prontamente recepito fuori o dall'Attica. Comunque, le due domande. No, io penso che si tratti di un Opus Nobile, inevitabilmente, proprio perché c'è una copia di Età Antoniniana, quindi un Opus Nobile c'è. Devo dire che, volutamente, non ho parlato della statua di Locri, che conosco bene, anzi, perché tra l'altro avrei dovuto fare uno studio su quel gruppo, ma poi i tempi sono quello che sono e ho lasciato tutta la documentazione fotografica a casa. Il problema è che quella statua, lì a Locri, insieme con quei di Oscuri, mi lascia sconcertato. Non so bene che cosa pensare. L'idea di base è che si tratti di statue acroteriali, basilarmente. I due di Oscuri alati, la statua tipo un'aura al centro acroteriale. Se, come... Viene dall'altro frontone, tra l'altro, viene associata con i calaveri che sono stati rinvenuti. Sì, diciamo, esattamente. Ma, insomma, come che si... E proprio per essere acroteriale, naturalmente, non rientra bene come confronto, per quel motivo che abbiamo visto, anche l'acroterio che ho fatto vedere prima, tra l'altro l'acroterio del Tempio di Ares, è di qualità, secondo me, inferiore, ma di gran lunga inferiore rispetto all'Atena, all'Atena Niche Sorgente. Ma si muove secondo questa medesima logica. Il mio problema di base è che, ribadisco, io non credo che questa statua possa essere né acroteriale né frontonale, proprio perché ci sono le copie. C'è una copia. Per quanto io possa giudicare, copie di statue acroteriali e frontonali noi non ne conosciamo. Quindi, se ci sono delle somiglianze, e se ci sono delle vaghe somiglianze, queste sono dovute basilarmente, secondo me, proprio al gusto dell'epoca. Poi noi abbiamo poche cose rispetto a una massa. Non possiamo sapere quante opere ci fossero che potevano effettivamente dipendere l'una dall'altra. Avendo solo pochi elementi, cerchiamo di metterli insieme secondo una logica che non necessariamente è una logica di causa-effetto. Probabilmente ci possono essere degli altri elementi in mezzo che noi non conosciamo e che quindi praticamente ci impediscono di creare, di costruire il sistema complessivo. Secondo me. Ma insomma, questa è una mia impressione. Ritornando all'Atena Niche, dunque, la Dea era Ctonia, perché così è raffigurata sul più antico dei rilievi. È raffigurata, come vedete, con la Dea, con Polos sulla testa, una melagrana e una patera ed è raffigurata, come vedete, a mezzo busto. Proprio come se stesse uscendo dalla Terra. E così sono anche raffigurate le Carites di lato, che erano, come noi sappiamo, il loro culto era a fianco a quello di Atena Niche, come ovviamente ha detto Luigi Beschi. Se è una divinità Ctonia, probabilmente gli Atenesi hanno fatto, come dire, una sorta di crasi. Era una divinità Ctonia, come la grana ed elmo, da questo hanno ricavato che si trattasse con Atena Niche. Non nasce probabilmente, originariamente, come Atena Niche, ma nasce come Atena, un'Atena Ctonia, o una divinità Ctonia collegata con Atena. Ma, naturalmente, anche qui noi non abbiamo documenti a disposizione, tranne queste raffigurazioni, questa e questa. E qui, devo dire francamente, la mia impressione, ma è una mia impressione, che non è che abbiano voluto raffigurare la Dea con questo taglio, non rientra nella logica greca. Io credo che quella sia una sorta di balaustra, non una trapeza, ma una balaustra. E quindi, praticamente, che l'immagine sia raffigurata proprio così, cioè praticamente come fuoriuscente dal terreno, come divinità Ctonia. Anche qui c'è un problema nel problema, perché la veste di questa figura, questo particolare chitone con un mantello intorno al corpo, non è un tipo iconografico femminile, ma maschile. Lo si trova solamente nelle figure maschili della metà del VI secolo a.C. Non viene recipita nel mondo muliebre, se non molto più tardi, in epoca tardo-arcaica. C'è uno o due esempi, ma molto rari. Eppure abbiamo questo rilievo che è di IV secolo a.C. Può darsi che sia stata realizzata un'altra statua di culto di Atenaniche, di cui noi non abbiamo informazioni né traccia. Può essere, naturalmente. Non è che abbiamo tutte le informazioni in merito. Il taglio qui è molto più basso, perché il tipo che noi conosciamo delle divinità Ctonia è quello dello shoulder boost. Sì. E qui invece sarebbe un underneath boost. Sì. Perché è sotto, esce, e sono solo la parte inferiore delle gambe. C'è qualche esempio, ma curiosamente romano, le fortune ansiates di Romane. È vero, però le funzioni ansiates sono interrotte alle ginocchia. Questo è sotto le ginocchia. Sì, ma diciamo, evidentemente ci sono vari tagli. Sì, certo. E questo è il problema. Noi non abbiamo confronti. Questo è il problema. Pura fantasia, ma mi domandavo se la connotazione Ctonia non si lega alla funzione che è accennato parlando dell'iconografia vascolare di Atena Niche di portare via gli eroi dal campo di battaglia. Potrebbe anche essere, ma non è un'unica funzione. Perché un'altra... No, quella Ctonia, dicevo. La connotazione Ctonia. La connotazione Ctonia, sì. La connotazione Ctonia, certo. Cioè quella che porta i grandi eroi delle battaglie nel mondo degli inferi, la valchiria dell'epoca, quella potrebbe essere una chiave di lettura? Può essere. Un'altra domanda a proposito del braccio destro. Sono assolutamente convinta che, come dici, fosse teso lungo il corpo. Però mi lascia un po' perplesso il fatto che sul fianco abbiamo un incasso, mentre normalmente si trova un puntello aggettante. E allora mi chiedo se quell'incasso invece non sia un qualche intervento successivo, diciamo, al momento originario. E poi un'osservazione, ma è quasi una provocazione. E se non avessimo in realtà l'originale? Cioè se l'opus nobile fosse perduto e noi abbiamo una copia quasi contemporanea, cioè la statua sorgente group, e una copia romana di secondo dopo. Ma questa appunto è pura fantasia. Qui entriamo nella fantasia totale. Però potrebbe spiegare... C'è un solo problema che urta contro questa ipotesi. Il fatto che i romani, in genere, si prendevano in nobilia opera. Cioè, in genere, tendevano a... E copiavano in nobilia opera. Per cui, praticamente, reputo, come dire... Sì, è lo stesso meccanismo che dicevo prima. Ci mancano dei passaggi. Quindi, teoricamente, potrebbe anche essere... Diciamo, sì, come la niche di Paionios probabilmente aveva più copie, perché noi sappiamo che ce ne doveva essere una a Olimpia, forse un'altra a Delfi. Se la base di Delfi, il pilastro di Delfi, reggeva una statua analoga, può anche essere che questa fosse stata realizzata in più repliche in vari santuari. Può essere, non lo sappiamo, ma può essere. Certo, è una possibilità. È una possibilità, non lo sappiamo. Per quanto riguarda, sì, il foro sulla destra, io, in realtà, pensavo alla possibilità di un attributo di bronzo e quindi l'aggancio fosse per un tassello di bronzo. Quindi, praticamente, la palma, per esempio, uno dei rami di palma che, scendendo di lato, si aggancia. I have, too, a question about the right arm. Can we see the slide with the Nike of Paionios next to the Sorgenta Athena? My question is about the position of the breasts of the Athena Sorgenta group because, if you look here, one arm raised and one arm low, then the breasts are on a different height. But this is not the case with the Sorgenta group statue and it would be a mistake of the sculptor which I can't believe that it happened to such an excellent sculptor. So, my question is is there a mistake or is it just the photograph so that we have to turn the Nike a little bit around so that her right breast is lowered in regard to the left one. The position of the statue of the Sorgente is in some way in some way hereditata from a Perno that was already there. So, we don't have yet an idea precise. Yes, it could be even slightly moving forward. This is possible. Normalmente what we have been trying to do in this case is to keep the image as much as possible vertically to the height of the torso. So, for what I can't judge, if you say the Dr. Necolucci if it is so, L'immagine anche quando l'abbiamo rimessa durante la mostra era con il torso quanto più possibile verticale e quindi parallelo rispetto allo spettatore evitando quindi di spostarla avanti o indietro. Diceva anche per il posizionamento dei semi rispetto a questo Sì, è lo stesso problema. per i semi è lo stesso motivo cioè noi non possiamo cioè che fa da cosa sì, infatti è quello il problema noi abbiamo trovato come sistema di organizzazione della statua quello della gamba portante cioè la gamba destra che poggia per terra e allora è su quella che abbiamo cercato di trovare l'asse sulla gamba destra e quindi teoricamente questo dovrebbe essere la sua posizione il seno destro è più sollevato proprio a causa del braccio sollevato no dico una sciocchezza non è non è questo la cosa perché i due seni non hanno una grave una grande differenza di di spostamento tanto è vero che le pieghe sono assolutamente uguali se guardate non sono asimmetriche tra l'una e l'altra come? si un braccio molto sollevato avrebbe portato un'alterazione in anatomia esattamente mentre invece no il panneggio cade con un sistema molto regolare proprio non c'è uno spostamento di pieghe che dovrebbero seguire un braccio sollevato invece no si I have another question which starts again with some observation at the statue itself the copy or let's say copy the Roman imperial copy the folds on the back fall back in S line back to the feet which is weird if we think of a flying or landing figure so the back folds should be going further back and almost horizontal as for example it's the case with the pionius Nikke and again my question is do you think that the original would have this as well so that the folds go back back to the feet in an S line is it or is it just a variation of the Roman imperial I don't so but is it then really flying or is it more standing with a little bit of movement forward this is my question the statue pit kerne if you look well is placed in its position slightly thrown back and this makes a little different the position of the pan along the legs but if you well the part preserved is very gettata dietro guarda quella parte quello che invece non mi convince ma dipende dalla statue pit kerne è questo movimento qui che io vedo come un movimento molto disorganico tanto è vero che mi sono domandato se per caso non sia una una variante del copista a causa di una frattura della statua originaria e di un restauro di età romana della gamba sinistra perché indubbiamente questo è un elemento molto disorganico nel modo guardate questo sistema delle pieghe come girano io lo trovo veramente un po' disorganico non particolarmente organico qui la soluzione non è molto elegante certamente non a livello della qualità delle sculture di età classica per cui mi sono domandato se per caso la statua quando è arrivata a Roma non avesse subito già un restauro di una delle gambe e quindi la statua Pitcairn risenta di questo restauro ma non possiamo dire più di quello che vediamo naturalmente solo un'osservazione piuttosto speculativa in verità ma mi sembrava utile parlarne a proposito del contesto originario di esposizione di questo pilastro o supporto sul quale è restata la statua di Atena io crederei di poter escludere dal novero dei candidati almeno il santuario di Olimpia perché se ben ricordo ma qui abbiamo anche il professor Saradino possiamo anche coinvolgere lui il santuario non è mai luogo privilegiato usato in senso politico per quanto questa parola abbia un senso da Atene nel corso diciamo della storia del santuario la presenza atenese è piuttosto sottile non così importante come invece a Delphi quindi sembra sempre di notare una sorta di attenzione privilegiata per Atene sul santuario di Delphi usato come palcoscenico internazionale in chiave politica che non ad Olimpia io credo quindi che insomma forse convenga rimanere più inattica o insomma in santuari più piccoli che non i panellenici oppure rivolgersi al Delphi ma ecco Olimpia forse no è sempre il solito problema anche nel caso di Olimpia se non erano gli Atenesi erano gli amici degli Atenesi che facevano delle dediche come per esempio i Messeni e i Naupatti quindi e noi sappiamo che quella dedica era anche di Atene anche se Atene non compare a Olimpia ma compare a Delphi ma la statua era forse la stessa cioè l'artista che noi non sappiamo chi fosse figlia non lo so dice no no questo è vero indubbiamente vero a meno che non sia la vittoria di una città amica di Atene che celebra appunto a Olimpia ma questo è un altro paio di maniche ovviamente io se posso mi aggiungo una domanda sì sì Ludovico Rebauda poi la mia sono proprio due curiosità di piccolissimo cabotaggio la prima è alla fine che cosa rappresentava la coppia Pitcore visto che non ha le ali la seconda sì immaginavo naturalmente ma naturalmente però è un dubbio che viene visto che non ha le ali la seconda cosa era pensavo al suo discorso addietro un'idea del sistema opus nobile copie strutturato poi come lei è capace di fare con questa enorme quantità di riferimenti eccetera mi chiedevo io ho sempre in mente un caso che a me sembra straordinario che è quello della Penelope di Teheran in cui un originale che scompare finisce sigillato dentro un palazzo persiano ma ci sono anche le copie a Roma e questo come si spiega mi chiedo se non lo dobbiamo forse un po' ripensare l'impianto tradizionale del sistema opus nobile copia cioè se in realtà non c'è una circolazione più il caso del Penelope di Teheran è ormai credo che sia abbastanza chiaro i greci conoscevano le copie facevano e realizzavano copie di statue specialmente quando avevano un certo significato avevamo parlato anche della nicchia di Paionios che probabilmente aveva una copia probabilmente una copia delfi il caso della Penelope noi sappiamo per certo che ce n'erano copie e una delle copie è arrivata a Teheran cioè non i persiani perché i persiani non erano più in Grecia ma certamente durante una vittoria persiana in Asia minore probabilmente o durante una delle varie scaramucce che avvenivano hanno portato via una variante della Penelope a Teran a Persepoli a Persepoli quindi non rientra nella logica opus nobile romana nel senso che noi sappiamo che comunque i greci realizzavano talvolta repliche un altro caso esemplare noi sappiamo che il gruppo dei tirannicidi è stato fatto due volte uno da Antenore nella fine dell'età arcaica e poi in seguito da Critios enesiotes il primo è andato a finire in Persia e poi è stato riportato è stato riportato ad Atene e quindi Alessandro lo riporta ad Atene e quindi erano insieme i due gruppi e si discute molto se il primo gruppo quanto differisse dal secondo se l'iconografia fosse simile oppure no si discute molto su questo tema fior di articoli sono stati realizzati su questo tema io volevo aggiungere un altro aspetto ho due domande nello specifico uno mi riallaccio un po' al discorso che faceva prima Hanschette a proposito del confronto tra la Tenaniche di Sorgente e quella di Peonio cioè la grande differenza è che nella prima manca completamente il vento l'idea di queste pieghe che si modulano proprio per la forza del vento le increspature mancano cioè una maniera se volete anche più arcaizzante un po' severa oppure questo potrebbe essere anche legato a questioni cronologiche e quindi mi chiedo se anche la posizione che è stata scelta per la la statua di Sorgente che vediamo inclinato un po' in avanti non riprenda un po' in realtà la posa dell'Atena di Venezia molto più arcuata in cui le pieghe scendono verticali e appunto manca in quel caso proprio il vento che è il motivo poi trainante di queste nicai della seconda metà del quinto secolo l'altra sì però se si riguarda guardate come come le pieghe del panneggio vanno verso sì però una cosa che dovrebbe essere fatta proprio sulla statua di Sorgente è individuare la posizione corretta perché questa credo che ancora non sia la la visione museale più corretta tra l'altro piccolo dettaglio il braccio sinistro deve essere immaginato sollevato verso l'alto e non piegato così come nella ricostruzione perché il muscolo il seno è completamente stirato quindi va immaginato verso l'alto l'altra questione invece di workshop di produzione attica per quello che io so le figure alate a cominciare dalla nicche di paros in giù fino al quinto secolo non hanno mai ali aggiunte cioè le ali fanno parte dell'artifizio della scultura stessa il bravo scultore realizza ali che partono direttamente dalle spalle e si aprono la nicche di peonio non ha ali attaccate guardando le aurai o altre wind figures della seconda metà del quinto secolo tutte le ali sono parte del blocco marmoreo e non sono mai attaccate quindi mi chiedo a proposito della possibilità della produzione del workshop che ha realizzato questa satua dobbiamo immaginare forse due a me vengono in mente due ipotesi o che le ali fossero di un altro materiale e non di marmo o non è bottega attica perché le botteghe attiche per tutta la seconda metà del quinto secolo hanno tutte le statue alate le ali che non sono incassate ma fanno parte proprio della dell'acribia della della composizione un'altra domanda a cui è difficile dare una risposta per mancanza di documentazione come si può dire sì è vero in volte hanno le ali e qui io comunque ho pensato che fossero di bronzo di lamina di bronzo perché di bronzo dovevano essere anche tutta una serie di elementi della della dell'egida che aveva tutti i serpentelli di bronzo intorno quindi si tratta in questo caso come in vari altri casi di una statua che probabilmente proprio per la sua importanza aveva delle parti in marmo e delle parti in bronzo questo e quindi questo naturalmente impedirebbe di farle di marmo obiettivamente ma ripeto su questo noi non abbiamo nessuna altra l'altra no l'altra possibilità io ribadisco perché obiettivamente non posso dare una risposta perché io posso dare le risposte su quello che conosco non su quello che non conosco la possibilità è che tutti i perni siano dovuti all'intervento romano quindi a un intervento in epoca augustea potrebbe essere ma ripeto non possiamo dirlo non ci sono le condizioni posso dire però che contrariamente a chi non so abbia detto che non ci sono fori alle spalle delle statue greche di quinto secolo avanti Cristo è un falso perché ci sono quindi in qualche modo bisogna tenere conto che i greci realizzavano opere con i fori alle spalle ora naturalmente qui in questo caso il problema è a monte a causa dell'iconografia ma naturalmente non possiamo dare una risposta precisa tanto un dettaglio cioè a questo punto mi sembra di aver capito che hai mutato idea a proposito delle famose piegoline che sono un problema di cui vorrei venire a capo perché nella edizione tu le attribuisci a un intervento di restauro di età romana ma rivedendole ora ecco ora invece non ne sei più convinto io mi domando e nell'edizione tu sostieni che la pieghettatura giustamente paragonata con quei chitonischi è una è una fusione del copista con questo modello del chitonisco io mi domando se non sia un'amplificazione invece di quel dettaglio può essere può essere può essere la cosa strana è che naturalmente quando si va a vedere meglio le due repliche l'originale e la replica a fianco ci si rende conto che sono differenti nei dettagli per cui non è una copia totalmente fedele non è una copia per punti la copia Pitcairn ha delle varie differenze nella nella trattazione complessiva ci sono non poche differenze e sono chiaramente l'una dipende dall'altra ma chi ha fatto il copista della copia della replica Pitcairn è intervenuto con una serie di varianti dietro specialmente guardate dietro c'è una enorme variante da questo sistema a questo sono molto differenti non so da che cosa dipende non posso dare una risposta posso dire solamente quello che vedo quello che vedo e poi l'interpretazione dipenderà naturalmente dalle varie possibilità e ovviamente anche da nuove scoperte inutile dirlo nuove scoperte possono migliorare le nostre conoscenze per il momento posso semplicemente osservare che ci sono delle varianti tra l'una e l'altra tra l'altro come vedete anche la legida questa è tutta con le squame questa no ci sono delle varianti indubbiamente questa sotto alcuni aspetti è più semplificata sotto altri questa è più come dire viene fuori da una mano più più capace non analitica così al dettaglio le domande Hans no problem we have time plenty of time I have a general question about let's say the methodology are you sure that there is not another that there did not exist another copy so maybe an Augustan copy and so the pit is a copy after a copy after a copy as you've seen with your original sometimes we learn about statue only after a long time and until then the pit kern was a classicizing statue and now it's a copy after an original so why do you exclude maybe I did not understand correctly but I heard that you exclude that there were other copies in between from the original sure sure it's possible sure ma naturalmente è chiaro anzi questo spiegherebbe meglio le differenze tra le due copie solo che noi non abbiamo quelle intermedie e quindi l'unica possibilità che abbiamo è confrontare quell'originale con quella pit kern ma è possibile anzi lo do per scontato che ci possono essere altre copie certamente this may explain the redazione from the getting far more far and more far away from the original and so it may explain differences variations of the one copy we know tra l'altro tra l'altro la copia la copia pit kern la copia pit kern è è antoniniana è anche piuttosto tarda c'è da immaginare che ci possano essere anche delle copie di età giulio claudia che noi non abbiamo naturalmente i just wanted to mention which I'll talk about tomorrow but on the pit kern nique there is a puntello that survives on the left leg which may suggest that the pit kern nique was a model for another statue why did the sculptor leave the puntello on a very finished piece of work so we may have multiple variants and multiple copies even after the pit kern nique or the same or contemporary with the pit kern nique lo possiamo vedere con maggiore attenzione nella relazione di rene ok se non ci sono altre domande ringrazio un'altra no behave se non ci sono altre domande ringrazio il nostro relatore invito domani alla seconda puntata per quanto riguarda for this evening i would like to invite all of you here for dinner just on the opposite of the corridor around 8 p.m and we have a visit to the Campo Santo Monumentale by night around 9.30 so we'll leave from the school around 9.15 9.10 9.15 we advance or not so thank you very much and thank you Eugenio La Rocca buongiorno a tutti I thought we slept well after the visit I would like to start with the second day of the conference on you know and I would like to invite Judy Barbinger to chair the session this morning acting happy you've had Judy came to Pisa to join us at the police conference please this morning we will begin with two talks which will take us in approximately an hour then we'll have a brief talks and then we'll resume two more talks we'll have a little bit of question time after that short and then we'll break for lunch and then at 3 this afternoon we'll return to this room and we'll have some more in-follow discussion in-follow discussion I hope okay so this morning the first speaker this morning I have the pleasure of introducing Dr. Clemson I mean Clemson who is at the University of South and who has speaking to us this morning and around so if I could wrap the considerations on living in the arts 4500-1400 BC so I would welcome Dr. Clemson Thank you very much and grazie molto a Dr. Renato in guitar and a Roca I will get back to his presentation very soon in my talk I want to say I'll take two minor things ahead first of all the title I made a little reaction here that we're not very much around not many other wing figures I'm talking about it's mostly Nike Dena Nike Dena and I stepped back a little bit in time when I was reading a raucous presentation of the statue I thought I should get back to these things again one mile of pronunciation I think I will be extremely inconclusive about Athena Nike Athena Nike I fully agree with Professor Leroga's presentation of the Sorgentis statue including from the point of view of iconography its identification as a representation of Athena Nike Athena wouldn't figure to speak well-establish for Nike but with Athena's attributes of Aegis and Corgoneion she can be nobody else I descend though a little bit from its reasoning so far as I would call this queen goddess Athena Nike much more an iconographic surprise that still raises some problems not yet unbilly resolved There is no fixed iconography of Athena Nike whatsoever but even less though there is a distinct iconography of Athena Nike as a winged thing Pozenius mention of Nike Akteros is well known for the statue of the ritual temple next to the entrance of Athena Acropolis the wingless knight but this statement includes a certain misunderstanding by the author that has created certain misunderstandings by modern scholars in consequence quite often what Pozenius did not get was that he was not talking about an image of Nike at all but of Athena Nike there is no work of Athena Nike in Pozenius at all and Athena Nike is a cult statue of Athena Athena and a potency of Athena Nike and Athena with the habitat of Nike there was and is basically no wonder that this image of Athena was described of wings we have to wonder much more about wingless Athena Nike Pozenius statement does not hold the distinction of this wingless Athena Nike from a different type of wings he was taking her from Nike properly and the wingless image of this first Nike was to distinguish from the well-known ringy figure Nike to get an idea of what might be the iconography of Athena Nike the first option for looking at this century it first on the Athenian Acropolis that Plasarias likes to tell a little about regarding the famous parapet of the Thanos we may well conclude that there is no single image of Athena Nike as such at all and much rather the Thriese as a whole deserve that name showing the goddess like dispersed neurocomponents of Athena Nike and Nike figuratively speaking and multiplied and depicting each but if any of the figures here have the potential to represent Athena Nike even if standing on their own these would be much rather those we usually call Athena than the Nikai the Nikai are in this regard attributed figures to clarify Athena's particular designation as Athena and Nike I also look at similar relations between Athena and Nike in contemporary race painting but before leaving the parapet I want to draw attention to the observation that the representations of Athena on the parapet are iconographically remarkable quite as well and maybe not that conspicuous manner In most probably all her four appearances on the parapet values of which I'm showing the two better preserved ones Athena is sitting Of course images of Athena sitting also exist in other contemporary works of art most famously in the assembly of the gods in the part of an east frieze respectively in the same scene also in Athena and temple frieze itself but here Athena is sitting as everybody is sitting the typology is determined by the scene in context as an iconic figure like on the parapet Athena does not sit in classical art until the sculpture program of the Athena Nike sanctuary not only the wing of Athena Nike comes as a surprise but so does the sitting Athena Nike quite as well the two motifs had different fortunes of sequined representations while the winged Sorgente Athena remains a halfax for ages the parapet sitting Athena had a new series of sitting images of Athena in motif and document grabbiots which do not always have to represent Athena Nike Nike this might then favor to their argument of the prototype of the seat of Athena is to be seen in undoubtedly important work of a few years Claudia already alluded to by Leroka yesterday as well from the booty of the victory in Amrakios as well as some other opponents in the Phoenician Wars in 425 the Athenians dedicate an agama of Athena Nike as we learn from an inscription about its later repair in Lucodia times given that just a few years after this day of 425 another inscription mentions an archaion agama of Athena Nike this official victory indication of 425 has a good chance to be the new agama that the old one is opposed to the prototype of Athena in a series of relives starting with Athenia Nike part by Dizam the Sorgenta Athenia Nike should be too early by a decade to be a concurrent candidate for this victory dedication but in the image the Sorgenta statue as well as the sitting Athena Nike choose contemporary very uncommon motives to present Athena searching for predecessors of the winged Athena as well as of the sitting Athena we equally have to go back to late archaic times I pass the letter one with a short notion that in late archaic art see the status of Athena are known by the lawyers Athena of course in the first place accompanied by a few other examples of seated female figures in large sculpture and in pteracholic figure it's really galore occasionally marked explicitly as Athena by A.C. Gorgon Mayor as in this case in Berlin Museum most often not the series though are not continued beyond the watershed of the later kai to early classic and there is not slightest reason that this seated Athena of archaic times represents the Tena Nietzsche participatory much rather Tena Pollyas turning back to the wing attitude she has a small series of appearances in later kai depictions as well in Nellale a word that basically as well most famous in the village of her mountain are generally drawn by equally mounted horses on west trees of the sydney treasury at death just quick reminder and but the winged Athena as we have seen is not completely foreign to Athenian waste painting neither all of these examples take from the last two decades probably of the 6th century 520 to 500 a winged Athena is carrying a dead body over the sea left on an old pair with a cabinele medai found in cavernos or rhodos he with that body might be canion a hero equally of Athens as of Magara where his grave was shown in the sanctuary of Athena a scryphos on bottom thrown in Obieto shows an antenna in promachos mode but with the eggs scratched out and winged it was indeed the opposite side actually has a completely long promachos mostly tweaking though top right is an image that combines the two emotives of the winged and the seated brothers on an acting for from the lubricant with no further especially specified across the currents while the other images are in line with the general notion of speed motion and power that wings have in our garden beyond a seated winged figure due to this is always an eximeron classical waste painters will occasionally use this to create a fruitful moment you see knee kick not intervening not yet there will be a decision to success but not yet this is far beyond the scope of the archaic imagery with its very much different relation to the visualisation of time and moment the combination of the proportional signs must have a different meaning here while the two first mentioned images of the winged Athena have no explicit relation to particular Athena and Ike whatsoever the winged and sitting Athena might allow consideration in this direction it is not at all a strong case but the sitting winged figure Athena has some predecessors in sitting winged female figures in waist paintings earlier by the decades already on the top right the bandit in the master card in Adolf's Eck is one of two image creases showing a winged but seated female as center of more or less symmetric rooms and so differing from the more common winged female figure in Knie Aufschema I think you understand Knie Aufschema in his position in a lot of cases all of these images are filed with the lemma of Nikke in link which is not able to save even for running fingers for the seated fingers these like Harry Nye with the sitting as the main argument prefer to understand them as Athena It is possible that the combination of designs may have led an ancient viewer to see Athena Nikke but a whole set of pro-resources advisor first already the meaning of winged female in knielauf schema is probably even less defined than according to Isla Kareni is already rather open reading as Nikke or Ares or Iris I think there are even more options nearly every god is an option god s in this case and looking at the closer series of images exams to caution against conclusions to firm jump up immediately and that is literally to be taken literally when you open the link all these images are of the same plate on the right little picture who is the mysterious guy sitting opposite the winged goddess in the second of her seated examples and on the left below it would be tempting to see Athena and Nikke in a seated ocean here we have seated arm finger not unwinged and winged finger next to arm so this would be tempting to see Athena and Ringen all again but if you look again the seated arm finger reappears two other times so the identification is not exactly strengthened by that the traces was an archaic princess the winged Athena Nikke remained faint we also have to remember that in even early archaic imagery wings could be assigned to deity just as such the winged new born Athena of the famous Timos Rellia Phytos sure is no example of specific Athena iconography springing as is of the head of an equally winged Zeus so as all of the divine figures are winged here and this is an option in at least a little higher type iconography the later high images of a winged Athena may well be just a main runner of this earlier tradition what we can hold is that the inspiration for showing Athena Nica as a winged figure as a seated figure and win victory dedication later both of these were taken from archaic models over a gap of more than half century but in a certain archaistic grade not in a formal political sense of course but in a semantic sense as with the offspring of the classical style in green arts there is no winged Athena anymore until this agenda set there is a much clearer graspable winged Nica now her identity proven beyond doubt by good series of its grim troops particularly on the sphere style basis but even in Athens and this is another reminder to be very cautious with the archaic images even more her close relation to Athena is not the only application she has when he is shown another deity this other deity can be Athena among others but it is originally toys the largest number of cases like like on the right hand page reading our written sources this comes as no surprise never apart from Zeus she has her seat according to the Lord no way she walks not following him in this quality this is a quite unique statement of the 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 and quote standing inside Zeus you judge the achievement of aretea for mortals and mortals alike Achilius addresses Nike in the opening of his epinegion 11 Nike is handmaiden structurally and most probably chronologically before she becomes Athena but it's the same as with the Igis who is also Zeus basically originally Zeus but he shares with his beloved daughter back to the images there is a significant change in the Nike iconography around the midst of the 5th century until then the location scenes without a god's chastin or crowning mortal victor are ordering the most contextualized scenes of her the largest number of images it all shows are just alone most often the movies are matter here but around mid-century larger and more complex scenes not at all seen before gain ground and the images of her alone are very simple compositions while not immediately vanishing they fade out the third quarter of the century sees her guarding the communication and interaction between gods and humans and images of Sirene Grendur like like the masterful standards of polygnotas and gotha on the left side and no less images of her spending the invasion again for departing warriors tend towards the conceptual imagery as Hülsher has characterized particularly the Nican Parade but I would set the final focus of this paper on a different group of images which again closely relates Athena and Nican a quite new group in the second half of the 5th century as well as there are hardly any mythological images featuring Deakin before 550 I would pass the giant tonic video which are just a few images this is mostly to remember that on the right lower side this is a famous image by the Sula painter already 400 going beyond and still we have Nike in the chariot next to toys so this relation still remains valid for certain scenes as well she can be with Athena of course on the part of the she is with Athena and from this image the relations may not appear all too clear on the other image of Hertha's introduction to Ollandos in the Villa Julia after Gilded the circle of Talos painter which is showing Nike in very reduced size now right the green sitting Zeus and standing Athena but this actually is a great example of the high degree of sophistication of the ways given tree of this period first Nike's direction is from Athena towards Zeus which makes Athena's companion here then this direction is actually not the final one but Athena and Nike are strongly banned their movements go back and forth at the same time Athena is recommending Heracles towards whom she looks On the other hand Nike looks towards Heracles while she's flying towards Zeus The ruler of the gods is in an intermittent position in the dramatology of the image Athena's speech is successful for that Nike is flying towards Zeus but this success is after all the success of Heracles admitted to Olympus so Nike turns around to him to throw him with wrath in her hands There are several examples of images of Nike in presence of Athena and Heracles and in this complex composition we have some sort of an elliptical movement that Nike is moving towards Zeus but her whole nose is already directing her going back to Heracles On the top the inset is an image by the picture by the Nicias painter to which I turn the same Nicias painter has painted a very informative Nike also reduced size on a calyx crater required by the Virginia Museum of Fine Arts The reduced size itself deserves no comment It obviously manifests the superlination of Nike or Erros in other instances to another divine figure shown full size namely Athena here of course Small wing figures like this appear on mostly laconeian and East green wastes of archaic ties roughly made six potential there they can replace the full blown divine figures showing their effect on mortals without even showing the deity itself in etigology classical waste painting that occasionally exists but usually Nike is shown in her own right not reduced and not explicitly subordinate but the most complex of late 5th century images return to this figure of visual speech they clearly express Nike's position as Athena's handmaid but to my knowledge only two of them do it as strongly as Enykia's painter this image of the world of Erytonios not only the reduced size Enykia is literally back in Athena Athena has her hands free to receive her on Erytonios thanks to Enykia who holds her weapons inside when they are Athena's weapons is sure by said Athena still wears the helmet but her shield and her spear are in Nike's hands this is unheard of if Athena is shown out she never gives some of her weapons into someone else's hands this other this Nike cannot be someone else for you she is a double part of Athena herself that is one more even more striking parallel to this mode of figurative speech which I will conclude precisely speaking there are two occurrences but on the A and B side are the same ways which have to be interpreted in close connection it is already seen yesterday by the Kekops painter Captain Los Fasallari and Adolf Stag in Hessen Germany with a very allusion representation of or allusion to the same just seen theme of the birth of Aritonios on A left combined the characters against the bull on B I have written extensively in this based on the thesis so I will reframe on the general description and just have a major focus here there is quite a bunch of winged figures particularly on A and above the images Athena equally is accompanied by two supporting figures one is a small winged figure winged pinot figure as just seen on the left in each of the images I will pass this for now the other one is the same size female figure and holding the weapons of Athena as just seen on the other image now these two have the variations with each other as well as with Athena are highly agree on on the heraclis side on the right hand side is standing winged woman holding just a shield next to sitting Athena having had helmet and spare on the heritonial side Athena is standing holding just a spare her attendant this time sits on soft stele she rests her arm of the shield and presents the helmet in her right and she is unwind the two images play a game of variation and there are unmistakable references to the iconography of the Niko parapet and probably the assumed victory dedication to a Tela Niko 425 possibly another reference even on the ancient the archaic Agamara of Athena Niko the olive that Athena on the B side is holding might relate to the home grade of fruit the archaic Agamara had as an attribute more Italian norms Athena has a sort of double in her companion with her arms in her poses and if you want to name it it would be Athena Niko There is a fair chance that the way the painter explicitly did so as there are paint traces of that paint of an inscription on the base of the theory of the unknown attendant figure on a can be shown large images it's badly weather but Romer was able to read Kappa Alpha Omicron there's not much left of that but I hope it's helpful helpful you can see the Alpha here I tried to photoshop it to correct it's clearer here and there are some phrases here you can see the color so it's not just fantasy it's just a crew there so the other green city in the temple of Athena then would be the only image of precisely Athena Mieke epigraphically approved side B proves that she can be exchanged in exactly same realm basically by a winged figure quite as much within the visual gates of the double nuns Athena identity and dispersion of Athena Nike Athena Nike a winged Athena is an option in this culture sure though she's not the given choice one would expect she remains big surprise thanks for attention thank you very similar to paper we have time for a few questions I just wanted to say there is a possibility we have a seated Athena who is a bit earlier than what you said there is a statue found to the east of the Artheon it's a seated goddess she doesn't have the top so we don't have the gorgonion and she is usually attributed to the east of the Parthenon but it is incorrect this attribution I think that she shouldn't go in the Parthenon I will give you the reference later because I don't have the exact reference but it is possible that she has seated Athena from say 420 430 ok it's a nice other questions yes I remember the archaic mid 6th century altar of the 189 century saying that it's 189 already 189 century so there was the base we saw yesterday the talk for a woman so on something is that the archaic aggramma yes sure I was more rather focusing on the new aggramma the neon aggramma which I think should be it's an option it's hypothesis that is identical with the dedication of 425 there is also the archaic aggramma we know from an inscription mark said for 18 nobody believes he can date apart for him nobody believes that it's dated the year but in the same period of reconstruction of the old century there is mention there is explicit talk of archaic aggramma this is the one you mentioned now we have base of course we have the this is it's perfect case it's wonderful I mean we have the altar it's written and the cult is very old I think and the cult is of course has an aggramma and this is the aggramma of beginning the foundations of the new temple of Athena Niki is 3.4.38 because the foundations are linked with the beginning of the foundations of the misogynial propel so the inscription must be dated much earlier than Matthew for example thought which opens the possibility to date the aggramma again a little bit earlier than it's usually done and that is one thing and the other is that yesterday didn't say that this temple the temple built of a egyptian forest stone must have been elected after for 18 and not after Maratha because there was not a little bit of burned surface on the blocks of this egyptian porous the material which would not have been used in happens before 18 about 18 and the colors base technology I want to first explanation point I do not see what the relation between the building gates you were referring to and the agon update I mean we are talking about two different two agon we have the old one which is probably archaic or replacement we don't know but which is supposedly old and then we obviously have new one as the old one is characterized as old one and I was not the first one banjo in the hypothesis that this new agon is to be related with the statue the dedication we know from being placed after 425 so in any case there will be the older image even older than whatever beginning of building and the other one is broad discussion by this dedication which is also dated 425 so of course we can guess there is another statue we don't hear about which is sometime already after 438 which is the new agon to which you need to propose that they are wrong I think there was one more question and then you go online excuse me this was my fault I was taking some notes and missed how did you interpret the three mentors that you discovered at the bottom of that relatively base is kappa alpha omega excuse no no it's my mistake I was running away from my manuscript if you read kappa alpha omega you must read kappa alpha omega 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 Grazie per essere qui con voi e ringrazio il professore Allonato e la Roca per l'invito e per percibare qui in questo premio, anche al dottore Thompson per il suo contributo illuminante e anche alla fondazione Sorgente e il dottore Sebastian Blucci per la vostra ospitalità. I know you will forgive me, but I will deliver my book in English today. Today I propose to speak about principally two statutes which I must admit I have not had the opportunity to examine either of them as closely as I might wish. The first, of course, is on your left, the marble torso belonging to the Sorgente Luther Foundation, the subject of our convenio, the Sorgente Luther's talk. I did have a good fortune to see it in Rome just a few days ago, after I prepared these remarks which I have adjusted slightly and I am very grateful to the foundation for its hospitality. The second statue has not been seen by anyone for more than a millennia and a half. And I refer, of course, to the gold and ivory statue of Niete held in the right hand of the monumental Chris Elfentine Athena created by Pius in the third quarter of the 5th century BC for the mouse of the Parthenon on the Athenian Apropos. And I show you here a copy of that statue with his creator, Alan McGuire, made in the 1990s for the Parthenon in Nashville, Tennessee. And this always gets a laugh, and I felt laughed before I went and visited it, but it is, in my opinion, the only work that we can really call a copy of Fides' statue rather than a representation, for it's a full-scale, one-to-one replica standing some 13 meters tall, even if it is fashioned not of gold and ivory, but of gypsum cement and fiberglass, gilt and painted on a stainless steel frame. Of course, the value of Alan McGuire's Athena Apropos as evidence for the appearance of the lost ancient statue is negligible, but I think on the whole it gives an impression of the scale and impact of Fides' lost work, especially if you stand inside the temple in front of it, much better, perhaps, than most of the numerous other smaller ancient representations in marble, metal, ceramic, or precious stone. And so, I really would encourage you, if you have the opportunity, to visit Nashville to see what fire is statue. Now, there is not time here today to rehearse what we know and what we don't know about the so-called Mena Parthenos, its religious, political, and economic importance in fifth century BC Athens, its rich iconography, its innovative technique, its complex history and influence throughout classical antiquity, nor the many ancient representations in a wide variety of materials, and this is just a sampling, in gold, silver, marble, precious stones, terracotta, etc. It is, however, worth noting in this context that the Nike, held by the goddess, seems to have been particularly admired by the ancients. And thus, in the 1950s, Professor Reese Carpenter suggested that the Pitcairn statue, which we heard about yesterday, and we'll hear further about today from my reading, which so closely resembles the Sorgente group statue, was an ancient copy, this was the Carpenter's suggestion, was an ancient copy of Fides' Nike for the Athena. Now, this argument, which has rightly been disputed by a number of scholars, including Dr. Romano and Professor de La Roca, was based not only on the iconography and style of the figure, and the peculiarities and the similarities and differences to Attic works of the late 5th century, which we have already begun to discuss, but Carpenter was arguing also on the basis of technique of the Pitcairn statue, the joining of the head, arms, and especially the feet, and other cuttings at the bottom of that statue, and traces of vermilion, which he thought to be evidence of ancient building. Thus, he saw the Pitcairn statue as a Roman composite gilt replica of an earlier Christoph of the time image. Fides' Golden Ivory Nike, completed by 438 D.C., was praised explicitly, if briefly, by the Older Clinic, who in Book 36 of the Historia Napicalis said it was, Pricupioe Meradili, especially to be admired. The Nike was also described by Pausanias, who tells us that it stood about 4 cubits tall, that's to say, about 6 feet or life-size, or a little larger life-size and I'd say the feet, and that it was made of gold and ivory. And it's also mentioned by Herring. None of these authors provide any greater detail, but I would note that these three citations, each mentioning the Nike exquisitely, in total, surpassed the number of surviving ancient literary references to all of the Parthenon's surviving architectural sculptures, the pediments, the Mediques, and the Freed, we so greatly admire today. I think we have to remember, as a colleague once mentioned to me, that the Parthenon and its architectural sculptures, as we know them, are really just the equivalents of a fancy candy box and its empty wrappings. For all of the fine chocolates that were once inside were eaten long ago, and cheap among those fine chocolates was Fidus' Cris-Elefantan Athena. Fidus' Nike is also mentioned repeatedly in the Parthenon inventories described on stone, the early of which provide additional information about its appearance, as they record the weight of the Stephanos that the Nike wore on her own head. Stefanos Crisos on a Nike, ette epitis capales, et epitisteros tu aromatos tu cruzu. Later inventories further record that some leaves became detached from that crown, and they were inventories separately. In fashioning his replica in Nashville, LaCroire trusted the research conducted by Nick Leipin for her smaller reconstruction model of Athena Parthenon that she produced at the Royal Ontario Museum in the 1970s. And Nike, in turn, relied very heavily on the small Nike preserved in the hand of the marble version of the statue, recovered near the Varvathian Gymnasium in Athens in 1880. One of the most complete representations we have of Fidus' lost statue. This figure wears a long, speedless garment, a pephos, with an apoptigma, or overfold, reaching down to her thighs, not dissimilar to the garment worn by the statue of Athena herself. But the Nike also has a thick garment, perhaps a matillon, draped around her waist, and draped over her left forearm. Her left leg is slightly bent in advance, with toes exposed. Her trailing right foot is covered by squirreling drapery. Both arms are bent at slightly different levels, and her clashed hands preserve traces of a fillet or the ribbons to tie an open wreath that is now advanced. But, Conrad Blanca, who published the Varvathian statue just after its discovery in 1880, noted fragments of a fillet that join a break on the Nike's left leg were found with the statue. Her wings, curved at the top, are lowered, neither completely folded nor widely extended, and her head, which the inscriptions tell us was wreath, is sadly lost. The Varvathian statue is now dated to the earthly 3rd century AD, more than 600 years after Fidus completed his Athena. Other representations of the Athena Parthenos type depict the Nike somewhat differently, and it's difficult methodologically to determine which more accurately represents the original. This is one of the earliest preserved ancient representations of the Parthenos, and one closest to the statue geographically, a terracotta ceiling excavated in Athenian opera in 1994, dated to the late mid-century. But, as you can see, it unfortunately lacks great detail. In contrast, this attic red-fingered column creator attributed to the Pleistos painter, exported to Gela in antiquity, and now in Berlin, dated around 430, shows Athena with Ajax and Achilles playing dice. The composition, of course, that can be traced back to its AES a century earlier, but the image of the goddess is clearly derived from Fidus' recently completed statue, and her Nike crowns the victor. The Nike wears sleepless peplos decorated with dots and lozenges, but have no horizontal comatium spun over for her arm, as on the Varvathian statuette. She extends both arms forward, the right in front of the left, holding an open wreath. Her stride is dynamic as she treads along the goddess' forearm, and her wings are raised and extended behind her. Of course, the narrative context of this scene greatly affects the composition, as the Nike turns away from the goddess to crown the warrior. She does likewise on some Athenian document release on stone, and here it's difficult to know how or to what degree these craftsmen or others have altered or abbreviated specific aspects of the figure to suit their own purposes, as we saw in Dr. Homsen's talk about the seated Athena figures being reworked into new narrative context in his presentation. Now, if we continue to privilege, as I think we might, a material from Athens in our investigation of Phygas' Chrysalis from Nike, this new style tetrodrome, minted by Diocles Maile and Maidos in the first half of the first century BC, also shows the Nike raising a wreath toward the goddess with both hands. Her wings are lowered behind her, and what seems to be the overfold of her peplos flares out in front. While this cornelian intaglio, also found in Athens that now in London, shows the Parthenos with an altar on one side of her as well as her standard attributes, shield, spear, and snake on the other, with the Nike facing the goddess on tiptoe, wings down, wearing a peplos, and perhaps, perhaps a crown, although that might just be the hairstyle, very hard to say at this scale, holding another crown along toward Athena with both hands raised, and ribbons fluttering underneath. If we leave Athens, there is considerably more variation, and again, we have to question to what degree these ancient representations of the Parthenos refer to Phytus' statue on the Popolis, local emulations of that statue, of which there were many, or just the Parthenos type. On these two 4th century stators, one from Sida in Pompilia, and the other from Aphrodesias in Caria, we see the Nike canted expressively at a sharp angle as she moves to crown the goddess. On this stator from Sida, on her left, she raises both arms and holds her clothes, while that from Aphrodesias on the right, her left arm is raised and the right is lowered as she holds the wreath open. Some decades ago, on the basis of cuttings and oxidation marks, the Pitt parent statue was likewise reconstructed with left arm raised and right lowered, holding an open wreath, as we saw yesterday. and, more recently, the Sogente group statue has been reconstructed with similarly positioned arms, but holding a closed wreath with the raised left hand and a palm branch in the lower right, as we saw yesterday. Now, if we extend our exploration of ancient representations of what could be Fidus's crystal contain that being time and space, we find parallels for this second arrangement, too, as, for example, on this limestone altar from Sardisha, now in Adana, dating to the second century, where the arms are reversed, but the Nike raises a closed wreath with one, and holds the palm branch in the crook of the other lower arm. And, on still other ancient representations of statues of Nike, such as this one on the Panathenaic Paisamper from Arretria, fashioned in 3632 B.C. during the archonship of Paraphines attributed to the Portoilles painter, we see the goddess of victory holding a wreath or fillet in her lower right hand and a crossbar, apparently the framework for wrapping a trophy, in her raised left. It has been suggested that this figure, too, is a representation of the Nike of Athena Parthenos, but, in my opinion, this is pushing things a little too far. Yes. In any case, images such as this are rare in the numerous ancient representations of the Nike that can more securely be associated with the Parthenos type, which was extremely popular in coins and gems and other media throughout antiquity. But, again, we have to return to the problem of proximity, or, more often, distance, both chronologically and geographically, from the original Omniopropolis. And so we face the same problem when we adduce, for a parallel, this stunning gold relief one of several of Nike holding a fillet between raised lower hands that formed part of the decorated interior of a magnificent late 4th century golden ivory parade shield found in Tune II in Pagaina, about which Professor Pagliat knows far more than I. I bring it in here because it, too, has been associated with the Nike of the Parthenos, but, again, probably over-optimistically. But if we return to Athens, and closer in time to Phileas, and we see, as on the late 5th century column, Great Timberland, which I'll show you again here, the attic belt crater that Professor Thompson adduced, and really explained quite well, explored to Ruvo in antiquity, and now Medelia Julia, Athena appears here, again, in the guise of Pagliat's Parthenos, with her distinctive triple-crested helmet, and Nike holds the ends of an open wreath between raised and lowered hands. Only here, she doesn't alight on the hand of the goddess, but, as Professor Thompson explained, is moving between Athena and her in front and forward. Now, as I mentioned, scholars have not been so inclined to accept Carpenter's association of the Soriente Pitcairn statue type with the Nike of Parthenos' La Stepina, although the type does clearly share some features with late 5th century, or I should say, third-quarter of the 5th century B.C. of painting art. And in that context, it's difficult to imagine such a work not being impacted in some way by the production of Pagliat's and his circle, which had such a powerful effect. The chief objections to Carpenter's hypothesis appear to be, and we've discussed this, that the aegis in Gorgonan worn by the statue seem to indicate that it represents Athena and not Nike, although some of what Dr. Thompson said might call that into question. For there are no good parallels for the Nike wearing the aegis before the Pagliat's statue that Professor La Roca used yesterday. And it is, in any case, somewhat difficult to make sense of both Athena and her Nike wearing the attribute simultaneously in the sella of the Parthenon. Although it must be noted that Athena herself appeared repeatedly in the subsidiary ornament of the Parthenos on the interior and exterior of the shield on the statue's base, etc., although this is somewhat different. and the Medusa appears on the aegis and on the shield. So there are these repetitions possible. Nonetheless, in 1883, noting the apparently convincing Cyrenaic and Provenants of the Pidkarn statue, which Irene Romano will talk about, is perhaps not as secure as we might have wished, Steven Stuzinski suggested that the figure represented not the Nike that Pidkis produced for the Athena Parthenos of Athens, but rather the Nike he subsequently fashioned for the monumental Chris Elpentine Zeus at Olympia. That is to say, a Cyrenaican, Afrolytic version created during the reign of Commodus. Not much is known about this Cyrenaican figure, but if Pidkis' original at Olympia, which came to be ranked one of the seven ones in the world, we have quite a lot of information, although that word, too, does not survive, of course. And I'm showing you here a pair of Roman coins that are often seen in a single shot like this, and so much so that we come to think of them as all verse and reverse at one point, but they're not. These are two very different issues, one in Florence. Heusanius' detailed account of the Zeus and his profuse subsidiary ornament is the longest description we have of any work of ancient sculpture in the realm, surpassed, I think, only by his description of the chest of Gypsilums. Still, it doesn't tell us nearly as much as we would like to know, or at least as much as I would like to know, about the Nike and other elements of the statue, but the Nike is very prominent in his description, appearing right at the beginning. The god sits on a throne and is made of gold and ivory. He wears a wreath on his head that looks like sprays of olive. In his right hand, he holds a Nike, which, like the statue, is also made of ivory and gold. She holds a fillet and wears a wreath on her head. So, both the Zeus and his Nike wore floral crowns, stephanoi. And we must recall that the Aene inventories I quoted earlier were the Nike of the Parthenos, also wore a stephanos. Pausanius says explicitly that Zeus' Nike called Nikeinian, although it is often represented holding a clothes wreath, as on this stator minted by Silvius I. Of course, it's highly unlikely that any later sculptor could have made a precise copy of either Phaeus' Criseltan Nikei on account of their fragility, their extremely precious materials, and their relatively inaccessible positions. But it does seem possible that Phaeus himself would have had access to the models and even the molds from the Athenian Nike available to him when he made the Nike for the Zeus. Although, he may have well chosen to alter and adapt that figure in various details. For example, the Criseltan kind of Zeus itself was depicted wearing a wreath, so it didn't necessarily make sense for his Nike to bring him another second wreath, despite what we see on the coins and gems. We have the testimony of Pausanius saying it was a tiny. This gem, for example, clearly represents the statue in the temple and a clothes wreath being brought to the god. The Parthenos, in contrast, wore an elaborate triple-crested helmet. So her Nike could bring her a wreath, and what better way to place it upon the head of the goddess than to have it open and wrap it around the helmet and to tie it. Of course, as I mentioned, it would be strange for a penis Nike to wear to the Aegis and to the Borbogonean, for we know the Parthenos herself sported those attributes. But as observed by Tiszynski, this is less of a problem for Zeus and his Nike, and, I might add, would signal a further connection of, or to, the patron goddess of Athens in this statue fashioned by a Nehemiah sculptor in the Panhellenic century of Zeus. Phygus was nothing if not innovative. Whatever the case, we do know of at least one other instance where Phygus or his pupils may have fashioned a nearly contemporary version of the same statue in gold and ivory and in marble. Pausanias reports that the painting master produced for the Ilians that her self-inclined statue of Aphrodite-Guranea standing with one foot on a tortoise. Salvatore Settis knows more about this image than anyone else on earth, and there's not time here to explore the many fascinating questions about it and its multiplicity of meanings. However, Pausanias also mentions another fighting statue of Aphrodite-Guranea in Athens and a marble. And some scholars have recognized this figure in the so-called Aphrodite-Graza, now in Berlin, which was apparently brought from Athens to Venice by Morissini in the late 17th century. Could the Sogente-Guru statue perhaps represent something similar, a near-contemporary marble variant of a Chris-Elecantine work? I don't think so. For there are serious impediments to attributing the Sogente-Gurane type to Phidus' Zeus, beyond those raised already and by other scholars. Not least being the fact that ancient karakata molds from glass drapery excavated at Phidus' workshop at Olympia in the 1960s, and unknown to Carpenter, which I have argued elsewhere, are likely to pertain to the fabrication of Zeus' Nike and not to another statue, are for casting elements of a keton rather than a peplos. And you can see one of the molds in the reconstruction drawing, but I think it's very helpful with the drawing by the excavator as the Hemation we see as totally invented, but we do have the keton elements. So, my friends, where does this leave us? Perhaps as so often in our field, with more questions than answers. I'm not at all convinced that the evidence allows us to attribute this organic A-Picton statue type to Phidus, to translate it back into golden ivory, and to place it in the hand of one or the other of these great Priscilla's fine statues. At the same time, from the examination of the evidence I have shown you today, and from observing the other day in Rome, a small pinhole on the left hip, it seems to me, perhaps more likely, that the figure held a tinea or an open wreath in both hands, rather than the closed wreath and palm tree, or a palm branch or any other attributes. I thank you for your attention, and I welcome your questions and comments. Thank you, Dr. McHadden. That is really fascinating. I have questions, but I think we're going to keep this short right now because we don't have a pause. So, do you want to have any questions right now, John? Or do you want to just go straight ahead? Sure. I'll ask you questions and then we'll have a pause. So, anyone who should ask a question? Thank you. Thank you for this presentation where we can see, in a much more precise, the variants of the type of the Lichae, both in the representations on the part of the Lichae, both in the Lichae of the Lichae of the Lichae, the Lichae, the Lichae of the Lichae of the Lichae, still thereof behind the Lichae of the Lichae oneures over the Lichae, all over the Lichae, all over the Lichae of the St mta. Ст bourgeois and парth Joseph and the Dighae So what we have been thinking about the Lichae quando deve coronare per conto di Dio o della Dea un eroe, cosa che normalmente avviene in queste immagini. L'unica cosa che voglio fare osservare, ma ripeto sul problema, che avesse in mano un'Atenea ovviamente non si può essere sicuri al 100%. Direi che una rappresentazione nel V secolo a.C. di un'Atenea retta in quel modo è un po' più complicato vederla che non con il sistema normale di avere le braccia spostate davanti, cosa che almeno per quanto riguarda nell'ambito dell'Atenea etica esorgente non mi sembra possibile, cioè un braccio è sceso e un altro questo lato. Quindi, retta così, almeno nel V secolo a.C. non conosco modelli veramente simili. Conosco quelli di IV secolo, quelli di Berchina, ma più antichi non li conosco. Ma non è tanto questo il problema quanto la frattura di lato, quella grande frattura di lato, ho l'impressione che si tratti di una frattura moderna, cioè è una lavorazione... Quella sinistra. Quella sinistra, sì. Questa io credo che sia almeno giudicare dai modi di lavorazione un'altra di quelle... di quei lavori di restauro fatti in epoca moderna, diciamo, dal riuscimento di poi, non con quella accuratezza precisa che avevano in genere i greci e i romani nel restauro delle opere quando creavano realmente una sorta di taglio preciso e per l'ampio molto spesso come nella diurosis. Qui non c'è. Qui è solo, come vedete, una bocciata dura. Un sistema che di solito, almeno, nei lavori di restauro di epoca petrourbana, non ne ho molta conoscenza. Quindi, suggerirei, ma è una ipotesi naturalmente, che questi fori, specialmente con queste macchie di metallo, siano un... che stavano crescente per agganciare in un blocco di pietro di marmo dei pezzettini di marmo che erano caduti, cosa che normalmente avviene in epoca moderna. Ma, ripeto, è una... è una ipotesi e quindi non posso mettere ovviamente la mano sul fuoco. È una... una ripressione. Certo, avete ragione. Io ho letto il Perno, un po' fuori scritto, e come... Questo. Sì, questo. E come tu dava, il mondo, io penso che era una cosa antica e poi era rosso. Ma è difficile sapere quando... quando sono state queste cose e perché. Per le posizioni delle braccia ci sono le... le rappresentate pascolare, al fine o al quinto, ma puoi... Più di questo... Sì. Ma come... le faccio vedere, normalmente hanno le braccia spostate in là. Sì. Di solito... Un momento... Per esempio... questo... Già, ma... guarda che il braccio destro non è molto sollevato. No. È piuttosto... Sì. 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 per quanto riguarda ah c'è un'altra per le ricche delle grandi state di figlia il problema è più aperto nel senso che è difficile recuperarle ma io per questo parlano di queste cose di non esistente i per altri io mi sento a casa con le cose che non posso dire nella serie delle nicarine associate alle riproduzioni da partenosi se dovessi da più credito a una dare il credito a quella della statua dell'Europa che erano le altre sono molto elaborate la figura interamente è molto elaborata poi sono inserite anche in contesti non dico narrativi ma si piegano per coronare una specifia potessa per quanto riguarda l'amiche della statua è interessante quel mantello che passa davanti al corpo che mi ricorda invece un tipo statuario che fu attribuito da anni 40 alla schrader se ne ricordo allo 0 se단 poi degradata con spesso succede la stata classicistica sull'onda entusiasmo appealingi delle state classicistiche e poi, credo, mano a mano diventeranno meno il tempo, questa è una sensazione, ma quella aveva il rotolo, non dico che quel tipo è la linca della Pardex, ma è interessante il dettaglio del rotolo, perché quella ha comprato un tipo solare con tantissime rettiche, 12 rettiche, moltissime, questo non significa niente, perché anche le state classicistiche hanno dato regge, ma è un dettaglio interessante. Davvero, questi anche, se non lo sbaglio, sono alle volte collegati con dei miti di oro, del tesoro del partenone, che sono perdono da parte, e abbiamo la testa della Pardex con gli aviati per le lamine di oro, e ci sono queste anche lighe e altre, e se abbiamo tempo, c'è molto più di poter lavorare, che ha ragione di mettere quelli in discussione, quindi sì, ma come sono così diverso dal sorgente, l'ho lasciato. Ma, c'è l'ho? C'è l'ho? Ok, one last question. Ok, quindi a basso. So, our first speaker in the second part of this morning is Professor Lola Pazbiak, who is from the University of Athens, and she is going to be speaking on the wings and attributes of these so-called gentile staff. I would like to meet her. I would like to begin my talk by congratulating Eugenio La Rocca on his discovery of a new classical original, and by thanking Giancranco Adonato for organizing a meeting to discuss the implications of this miraculous discovery. I am grateful to Eugenio for showing me the statue and discussing it with me a few months ago. La Rocca's publication in the Catalog of Sculptures of the Sorgetta Foundation has established that the statue is of Pelian Harbour, and that its original height would have been about 145 meters. He has convincingly dated it to about 430 BC on grounds of style, and assumes that the statue was dated to Rome in antiquity, as we also discussed yesterday. This is very logical, considering the number of Greek sculptures excavated in Rome, because they were removed by the Romans. A prominent example is this sentimental figure of a lion in Nairobi, which is now in Copenhagen, and it was in the Augustus Exhibition in Rome very recently. This implies the original. La Rocca has worked out the position of the Sorgetta statue's arms, which were carved separately and attached by means of dowels. The right arm was lowered and the left extended sideways had raised. The statue steps forward on the right foot. She wears a girded teclos with over four, forming more points on the sides, and an Aegis covering most of her back, and hemmed with the gorgonions serving as a clasp in front. The Aegis identifies the figure as Athena. La Rocca sees her as an Athena Nike, on account of a dowel hole behind her left shoulder, which made up her the wing. This would place her squarely on the Athenian necropolis, where the count of Athena Nike was located. Regardless of the wings, however, her affinity to Athenian Athena is demonstrated by comparison to her representations on other record reliefs of the 420s. For example, on the left, on the left, the relief of the Decree of the Roigoi-Cree is elusive, which dates were precise before 22. And on the right, the Proxene Decree or Proxene Eats of Knaios, which cast from the Acropolis. They are more or less exactly the same date. Her right shoulder is broken off, but La Rocca has seen the remains of the dowel hole that held the other wing. The size and shape of the hole indicate that the wing was in marble lighting and not in bronze. Bronze wings would have been attached with metal pins and not square dowels like here. And at this point, I would like to point to two comparanda marble statues, which have attached marble wings. Here is an example from the 430s, the Irish of the west period of the Parthenon. The large size of the catheics in her back suggests that the wings were secured in place by a reach of tenors, not dowels. Some fragments of wings that he made in marble have been recovered by triantis in the storms of the Acropolis Museum. And he was planning to attribute them to this statue, but he died. And unfortunately, the workers never progressed. So we don't know if the reason the wings are separate is because they were grey marble and not white. And it's a good idea. That's why they are made separately. The shape and position of the dowel holes in the back of the Soracente statue can be properly compared to the catheics in the back of her Roman arrows in the Spartan Museum. And I think raises questions about the day of Athena's wings. The statue in the Spartan Museum has exactly the same shape of dowel holes. And it's Roman. Was our Athena designed from the start as a wing Athena? Her forward movements have been compared to the gliding effect of flying figures, like the Night Yogorleos and the Aura from the Algorand. On the right, it becomes clear that her gaze and the flowing motion of her drapery are much more restrained and may not suggest flight. It's very, very clear. A wing Athena of the high classical period would be unharmonical, as Eugenic himself already admitted. The Queen's raised issues about her function and attributes. La Roca reconstructs her with a palm branch in the right hand, a wreath in the right left, symbolizing victory and the corroboration of the victor. Both of them are symbols of victory. Whereas the wreath is a common attribute of Nike, as we see, for example, on this body of relief from Rambushi, the British Museum, where Nemesis and Thames on the left are followed by Nike, who holds a wreath. And she crowns one of the winners of the torch race. We occasionally see Athena crowning honorants in record reliefs, like this one on the Apropolis. The honorant is in the middle and Athena stands on the right, putting a wreath on his head. I think that palm branches, as an attribute of victory, belong to the Roman period. And they can be held by athletes, as on an unfinished statue of an athlete of the 2nd century AD in the Athens National Museum. Or by victories, like the victory of the new arch of Diocletian, which is now exhibited in Florence. Pound branches in Greek art are more mutually held in sacrificial processions, as on this adi-breath-finger leutrophoros in the Athens National Museum. You can see this project with the Panathinaea, and you see the, I'm sorry, it's not the Panathinaea, because it has a pig. But it is a procession, and they are holding palm branches. Before we proceed with the question of attributes, let us go back to the holes and capitals that can be seen on the statue. In addition to the doubles supporting not only the wings but the arms, the Athena has a number of capitals that need to be reexamined. It has been suggested that after the statue was removed from its original location in the Roman period, it was erected in a new setting, which necessitated the addition of a support in the form of a tree. Some of the Gathings could therefore have supported dowels securing a fila to the tree. Other Gathings have been interpreted as evidence of repairs, whether Roman or Renaissance. However, it seems to me that most Gathings could also be consistent with the treatment of pedimental statues in the classical period. We did look no further than the Barthelon pediments, as well as the Amazonomic pediment of the Temple of Apollos Oceanos, which was brilliantly reconstructed by La Roca in the Centrale Mont de Martini. The deep rectangular cutting at the bottom of Athena's aegis indicates the addition of a large iron dowel for attaching her back to an external support. A comparable cutting for fastening to an external support can be found in the back of the treasury of the Roman victory from the Library of Hadrian in Athens, now exhibited in the Library. However, this cutting is placed low and also off-center. The centrally placed cutting in Athena's back is closer to similar cuttings in the backs of pedimental statues of the 5th century. I need only to cite a few examples. Theseus and Athena, from the Temple of Apollos Oceanos, have exactly similar rectangular patties in their backs for attachment to the Typhonon. Caebro's son Erysichthon, from the west end of the Parthenon, was secured to the Typhonon by means of a similar tower. The lower part of Athena's skirt carries two superimposed shallow cuttings down here. One, two. The bottom one is still filled with metal. It is hard to explain these cuttings as evidence of repair, because I do not see any damage in the vertical folds of the Papyrus, right there. However, these cuttings could function as supports for iron cramps that would have secured the figure to the pediment floor. The best parallel are two cuttings for cramps in the back of the skirt of the Pedro's figure, who is usually interpreted as Hiram, that stood near the axis of the east pediment of the Parthenon. And you can see these cuttings here, in the Apollos Museum. So you have to imagine these cuttings going down to the bedroom floor. The horizontal geyser of the Parthenon preserves two cuttings that correspond to the holes in the skirt exactly here. And this was first observed by Emo Byer several years ago. The square cutting in the right side of Athena's overfall is also hard to explain as evidence of repair, although it could have served for the attachment of another towel securing an additional element. And yet I do not see any reason for repair, because I do not see any damage. The surface of the skirt under the left corner that was cut down, definitely cut down here, with a void, may have served to accommodate an object that had not been anticipated in the original design. We go back to the Parthenon Trocò veranda. The back of figure L and her seat, here, and the back here. In the east pediment of the Parthenon, we are also cut down with a void exactly the same way, after the completion of the statue, presumably as an afterthought to accommodate something. A shrink of the back of the statue from the Ilyssos area, which was once attributed to the east pediment of the Hephaestion, also indicates that it was numbered with in order to be adjusted into the narrow space of the pediment. Here. It is interesting that this figure is also Pellian marble, and would have been originally of the same height as the Sorgente at feet of 145 meters. Even if the gadgets on the Sorgente statue possibly suggest that it once belonged to a pediment, the double holes for wings, if that is what they are, may well have been added in the Roman period. The Pitcairn 19, the Glencairn Museum, which is a Roman burial of the Sorgente Athena, has no wings, as we have repeatedly heard. Whether this is a variant of the actual Sorgente Athena, or of another original, that is echoed by the Sorgente Athena, is a problem that we will discuss at the end of this paper. Going back to the question of attributes and assuming that the Sorgente Athena did not originally have wings, what options do we have? We observe that her breasts and the convoi of her overfoot are left arm, which indicates that the position of her arms must have been balanced, because these are horizontal here, and I think the breasts really are lovely, so she is not raising one arm more than the other. If the left arm was raised upwards and the right arm lowered, they would have affected the breasts and the colpoi in a manner which is comparable to the classical statue of Cori from Eleusis, where the left breast and the left colpois are placed lower than the right. here. This goes down more and this breast goes up. Because her right arm is lower and the left is raised very much because she was holding the edge of her matto. I believe that the leather breasts of the Sorgente Athena suggest that the left arm was slightly raised and raised sideways and the right arm was extended forward. The most common attribute in Athena's raised left hand is the spear. I illustrate here two examples of Athena of a similar statuary type on adding record reliefs of the four duenties. We saw them earlier. On the left we see again the tree above the roicoid raised in Eleusis with Athena holding the spear. And on the right we see the proxenite degree of proxenitis from the Acropolis. In both cases Athena extends the right hand in a handshake so she is not holding anything. Here and there. Here and there. In the calyx crater by the caprox painter in Schloss was at the ring, Athena pours a libation from the Fiali in her right hand and she holds his spear in the left. If we move down to the fourth century, we see Athena on the Barathenae Amphoras of the Archdiocese of Euphycritus in 328, holding a spear in the left hand and a knight in the extended right. Like all figures standing on columns of Parathenae Amphoras of Parathenae Amphoras of the fourth century, this image does also echo a well known Athenian statue and I think this could possibly be related to the prototype that inspired the Chorchent Athena and the Peter. Who is briefed as we get another issue? Was the Chorchent Athena statue copied directly by the Peter statue or were they both inspired by another famous original? If the Chorchent Athena. If the Chorchent Athena statue belongs to a pediment, it just possibly could have a code of free-standing prototype. Evidence for such practice is again presented by the Parathenae, where we see the pednosh-figure pediment, the era of the East pediment. And on the right you see a Roman copy of a classical original called the Chorchent Athenae and I think they are both imitating the same work. To conclude, we have argued that the Chorchent Athenae was not originally an Athena knight, but a plain Athenae holding a spear in the left hand and a victory or a fiali in the extended right hand. If she was not a free-standing statue but belonged to a pedimental composition, judging by the patties in her back and sides, she may well have drawn on a famed contemporary prototype that eventually also inspired the Peter statue. All this is just one of several scenarios that can be suggested by the fragmentary nature of the Athenae and the lack of evidence about her original location. They do not in any way detract from the real value of the statue as a high-class and original. Thank you. Thank you. Thank you Professor. We have time for a couple of questions. Yeah. Thank you for that very careful reading of the statue. I have two questions. One is more specific and one is more specific. Can you go back to one of your views earlier on where you show both the back and the left side of the Scorchentia statue? One of the things I noticed looking at the statue in Rome is that the square... Did they say that? Well, you had one with the left side as well as the back. Is the rectangular cutting in the back that's better preserved and they're clearly to the back that's good, I think. So I don't do that. Yeah. Well, okay. Between these two. This rectangular cutting in the back has deeper within it a circular drill hole that's in the upper part that's about, I would guess, one centimeter, two or three. Yes. And that seems to be, and maybe you can confirm, the same diameter as the cutting in the drill hole in the left shoulder, which as we discussed... Yeah. And if you go to the left shoulder, which you have almost immediately, if you change the picture to the left shoulder. The left shoulder. From profile. Uh, that's the right. You have the right one. Sorry. You have the note together, right? No, I don't have the note. Oh, I thought... There. There. That'll be... It seems to be the same diameter maybe as that cutting on the left shoulder, which as we discussed yesterday, seemed to be a later repair. So, it seems to me, one, this could support the idea that there was adjustment to the back. I don't know how to explain that drill hole within the square cutting, and I wonder if it could be, if those diameters are the same, those two cuttings could be linked, the repair to the arm, and the cutting, something going on in the back. So, I'll leave that maybe to Professor LaRocca to discuss. I'm also curious about all the pins along the bottom edge, which you did not discuss any review of that. So, I have no view of the other holes, because I don't know how to explain them. In the cluster period, we do have round holes inside the other holes. And there is a very good example, actually, in the Boswell throne, which I think is David. And also, there are... I don't believe it was that David. And also, there are such characters in the area field, as was pointed out to be by Valorius Correa. I think that's general. Yes, and some of the other holes within the other holes. And that would bother me. Beyond that, I can't tell. Any questions? Thank you. Thank you. Un'altra informazione per me, questo taglio sarebbe quindi destinato a aggiustare la stagua per applicarla alla parete frontonale? Un'altra figura così attaccata. E questo palleggio che scende così indietro come può entrare all'interno di un frontone in una figura in verticale così? Non è così largo, almeno a indicare la ricostruzione del tipo Kitker, che ha uno spostamento dietro molto maggiore. Qui si vede un po' di meno naturalmente perché è tagliato qui, ma a indicare dalla linea Kitker c'è un palleggio che va dietro in maniera molto consistente. E poi c'è un secondo problema. Bene, può anche essere che i fondi alle spalle siano ormai, ma a questo punto diventa ancora più complicato. Ci deve essere un prototipo di una stagua frontonale che è stata copiata due volte, per una stagua frontonale prima e poi per una stagua Kitker. Questo è obiettivamente un po' complicato. Quindi, originalmente, questo stato non doveva essere frontonale o diventata dopo in Epoca Romana? Non, non. che si chiama il movimento di Ionigasi, che si chiama all'arra di dormire, ma di più attenzione, ma di questo pianeta. Ma ma come si può explicarla la posizione del Zurgentus che si è completamente divergendo da questo pianeta, di questo pianeta, l'ammi motivi. I think there is still a lot of air in this figure. There is still a lot of emotion of this kind. Do you think it is explainable really simply as a standing figure as that? Yes, I can't believe that it's flying. I don't think that Gregory moves back so much as to explain the flying position. Thank you. Okay. Can I ask you a question? Can I ask you a question? No, I have to ask you a question. I don't know any examples. That's not a conflict. I have to ask you a question. I have to ask you a question. I have to ask you a question. Thank you. And thank you Professor Palahia. We'll need just a moment here to arrange things for our next speaker. Thank you. Thank you. I am going to ask you a question. Thank you. I have to ask you a question. Thank you very much. I will ask you a question. Thank you. Grazie. 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 Il resto della stagione è in questione. Molto informazione è ora disponibile in archivi e pubblicazioni about the dealers in cui l'hanno 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 prima Raymond Pitcairn composta. L'hanno composta tra 1932 e 1934 da Paris e New York dealers de Mott, Inc. Pitcairn's deep interest in the arts of the Middle Ages brought him in contact with the Belgian-born Georges Joseph de Mott and later his son Lucien who built up the company's reputation as the dealers in French medieval works of art. And here's one of the panels that purchased by Pitcairn from Lucien de Mott. Unfortunately, Georges de Mott was a scoundrel and sold dozens of fakes or medieval modern pastiche. He duped many American and French buyers including the Louvre, the Metropolitan Museum of Art, John D. Rockefeller, Henry Walters, and Isabella Stuart Donner. De Mott engaged in his Paris Atelier a talented sculptor and restorer named Emile Boutron who could fashion fakes and pastiche to look as if they sprang from the font of medieval imagination. De Mott also made molds of many works that passed through his hands. Photographs of which exist today and recently acquired De Mott archives in the Louvre. No photo has been discovered thus far of the Glencairn statue but they are still processing this collection. We do not know much about Georges or Lucien de Mott's interest in dealings in works of sculpture earlier than the Middle Ages or in the Greek or Roman forgeries that passed through their hands. How then did De Mott inspire the barry of Minerva, Victoria? The earliest notice of the statue is in 1910 when a drawing of it was published in the fourth volume of Sullivan-Granach's repertoire for the statuary of Minerva then. Granach identified the owner of the statue as Leonarus of Ceres. The Dutch-born Salamonsen Lenard Sullivan legally adopted the outrageous name of Leonarus Nardus in 1911. He was a scoundrel and a man of many talents. He was a trained portrait artist of some skill, a chess master and teacher, an Olympic bronze medal winner in Pepe at the 1912 Stockholm Olympic Games, and an art collector and a dealer who operated in Paris and New York. He was also a seller of forged paintings and possibly a forger himself. He acted as a dealer in New York from 1894 to 1908 when he was unmasked by extremely unhappy clients for he had sold forged old master paintings to many prominent Americans around the turn of the 19th to 20th centuries. Leonarus employed a known forger as a painting store, the same forger who was a mentor to the most infamous art forger of all time, Hanne van Heegren, who sold Hermann Luring his most prized masterpiece of Fate Vermeer. I recite this complete background about Leonarus and the DeMonts to warn us that I now believe we should be very suspicious about the program on information of the Glencairn work of Victoria given by DeMont. Leonarus and DeMont were both famous liars and cheats who knew how to manipulate respective buyers and most disturbingly were affiliated with known art forgers. I will emphasize now that I do not believe that Glencairn in North Victoria is a forgery. Glencairn was told by Lucien DeMont that the statue was discovered, quote, in the searches of Saudi, in the years when the region was under off and rule and that it came up on the market in Constantinople. DeMont also provided comparative information about the 1848 expedition of Joseph-Fathier de Bourville to Sierra Leica that supplied the Louvre and other private collections with Greek and Roman objects. DeMont insinuated that the Louvre was interested in purchasing the statue, a likely ploy to urge and to buy it quickly. We must certainly question if this statue came from Vladia de Bourville's expedition to Sierra Leica. We now have a rather complete account of Vladia de Bourville's activities and details of the disposition of this collection as a result of Thibaut Serré-Jacquard's 2001 article in the Journal des Savons. Vladia de Bourville died in Constantinople in November of 1854 with much of his collection with him. His widow brought the collection back to Paris and sold it at auction in April of 1855. Some of the collection, especially the Terracotta's, were purchased by the Louvre and other pieces were dispersed. There were no marble sculptures in the sale inventory as far as we can tell from the auction Kenwa descriptions. The Glencairn statue on the left and the Surgente of the Amici on the right and show them this position consistently, so we're not confused, is, as we heard, made of peripignitis marble, otherwise known as Paros I. Three samples were taken from the Manufa Victoria in 1985 analyzed by Professor Melanie Hurts of the University of Georgia and Professor Scott Pike of the Lambic University finally rechecked and confirmed these results within the last few months. The statue is 1.12 in its preserved height, and I reconstruct the statue on the ground, 1.35 to 1.45 in meters in height, or three-quarters in life-size. This compares very closely with the Surgente of the Amici that is 93 centimeters in preserved height, but of course lacks the lower part of the legs. The maximum preserved width and depth of the two statues are nearly identical. The Glencairn statue's body is carved from a single block of marble preserved from the shoulders to the bottom edge of the drapery in front, but the head, arms, and feet were all added separately. A rough-picked oval depression provides the setting for the neck and head and is secured with a small iron dowel. The attachment surface for the left arm is broken off. The slightly downward-inclined feet were inserted into cuttings under the peplos. In this photograph, and the drawing on the right is by Carpenter, you can see the underside of the block. I've never had an opportunity actually to see this when it was off of its modern mount. But Carpenter identified the drilled, the small drill holes in the middle of the feet, or the attachment of the feet, to the, with metal pegs. While a larger oval hole here, he, I believe, was a modern mount. I think that is correct. There is a six-centimeter deep depression sunken area with a square cutting here, which we only see less than half, for the attachment of another block, a mounting block, which raised the level of the statue so that the feet did not rest on the block, but floated above. This extra piece would serve as a counterweight to the forward thrust of the statue and anchored it to its pin for whatever it was mounted onto. At the back, you see here in the lower area, I believe, a repair. There are two metal pins here to attach a piece that had broken off. And this, of course, is a modern mounting bar, and it's quite messy, and it may be in a position where there was some ancient bar we can't tell. There are some minor erasions and missing fragments, including on the lower edges of the oak fold of the peplos, but in general, the Glencairn statue is in remarkable condition, while the Sargentia theme is much more warm. I'm assuming that the drapery of both figures would have been painted, though I have detected no trace of it on the Glencairn statue. As we've heard, in the 1950s, Carpenter noted four or five specks on the peplos, which he identified as red sulfide of mercury. He interpreted this for the sizing of the material to which the gold leaf would have been attached to the marble. So I did not find any of these spots to which Carpenter was referring. The Glencairn statue is aligning with her feet slightly, excuse me, her knee slightly bent, the left more deeply than the right, the right leg slightly in advance of the left. In the case of Sargentia statue, Professor Marroca has mentioned that the right foot would have been flat on the ground, while the left slightly on tiptoe. In both cases, the body of the figure would have been leaning forward. The Glencairn statue has a much more pronounced counter curve when seen in profile, and she leans more sharply forward, perhaps even further than her current mount allows. The right arm of the statue was partly raised, as we've heard, while the left arm was raised above the level of the shoulder. of the Sargentia, we've discussed the Sargentia, and Dina's left arm is also upward in some fashion, although it's not possible to say much more. Right. On both figures, the aegis is of the collar type, with the medusa serving as the clasp at the neckline. The Glencairn medusa is characterized by a wide-faced, a boldless nose, protruding tongue, hair card in the middle, with wild locks of hair, and with the snakes carved in marble. The general medusa type, that is the facial characteristics, with that broad or benign face, is seen on various novel copies of adaptations of 5th century works, including on the Athena Albani type, and on copies of the Athena Parthenos, for example, on the shield of Athena in the Patras Museum. It is hard to closely compare the medusa on the Sargentia and Athena, since it is so worn, but it appears to be of the same general type. On both statues, the cape of the aegis is worn backwards. On the Glencairn statue, it fits closely to the form of the back, and is treated as a smooth surface, probably once painted, with a scalloped lower edge. On the Sargentia Athena, the aegis, the scales are painted over the protective cape. On both statues, the daugis is wearing the attic peplos, clasps of the shoulders with belted apoptima. Catenary folds are represented on the front of both statues. On the front of the Glencairn's torso, however, here, there are finer prickly folds, indicated by incisions, a confusing chiton-like feature of the peplos garment. And the only comparison for this treatment is perhaps on this, on Hellenistic works, like the treatment on the chiton, for example, of the well-dated 4th century, the late 4th, 1st, 5th, and 3rd century, you can see statue of the priestess, from Priene, an artist museum in Berlin. On both the Glencairn and Sargentia statues, the bare side of the upper torso is visible under the arms where the peplos dips low. On both statues, the sides of the peplos are closed with no opening on either side of the body. The drapery on the lower part of the Glencairn statue clings to her legs and extends behind her, threaded with a combination of shallow, wavy incisions and deep, dramatic folds executed with the drill. One possible difference between the two statues relates to the interpretation of the presence of our line with the wings, which we've heard, which I'll present to you again with an open mind and seek your opinions. The Sargentia theme of the 6cm-deep vertical cut into the front of the shoulders and tracing them on the right, and we can certainly interpret these as attachment points for wings, either original or added later. On the Glencairn Minerva Victoria, I'll give you two views of the Minerva Victoria from slightly different angles. Reese Carpenter interpreted some very shallow channels, 3 or 4 cm-deep, and this is one of them, for the attachment of wings of hammered bronze that were, he thought, in a closed position at the back of the statue. I am not able to reconcile these as attachment points for wings. On the right side here, it appears to be a core channel for the attachment of the right arm. I'm not sure what it is on the left side. This is more confusing. This is broken here. This is the way that the collar comes around on the aegis. The arm is slightly broken, but there is this cutting here, which may have something to do with the attachment of a clasp for the peplos, or, I'm afraid I can't explain it very well, but I can't imagine how this and the cutting on the other side match one another and relate to wings. There are several rusty red surface discolorations that I have interpreted as iron corrosion products, possible remnants of contact points for metal attachments, not attachment points, that is, these are not pins, that go in penetrating the marble, they are simply discolorations on the surface. So I am interpreting these as possibly the contact points where some attribute was across the body in this form, in this direction, held in the left arm and in the right arm. And here you see the reconstruction that we did some years ago, holding this being fillet, and where fillet would be touching these particular points. On the outside, the lower left leg of the Glencairn statue is a puntero, a measured mound with a compass point in the center, surrounded by rusty red discoloration and filled with marble dust. The puntero certainly suggests this is not a freely executed work, but a copy of variation and adaptation, but still needed some measured points. I cannot explain why it was left behind when the rest of the statue was well finished, unless the statue was meant to serve as a model for other copies or for a duplicated figure to complete the pair. The differences in the style of the carving and technical details of the two statues portray the differences in the date of the two. The Glencairn statue is certainly a Roman dig. Its extensive piecing with its added head, arms, feet, and complicated support mechanism are more compatible with the date in the 1st through 2nd century AD. The deep oval cavity in the neck is a characteristic of especially the 1st and 2nd century, with excellent parallels among the corpus of 2nd century AD sculpture thrown beside Levy. The combination of the incised surface treatment with the deeply grilled folds, creating as a chiaroscuro effect marked as a Roman's creation. It fits most comfortably into the period of the 2nd century AD, in the late Trajanic, Cadenhanic, or most likely the Antonine period, but I can't be more precise on that date. The synthesis of Athena with Miki, or Athena and the eyes of Miki, as of course we've heard about this. Professor of La Roca and others have pointed out examples of the leaded Athena, especially in the Greek vase painting. There are also examples on lamps and terracotta figurines with coins, and I show you this one silvered an arius of omission, for example with the wing of Nerva Victoria alighting with a spear in her right hand with his shield on the left. Sculptural examples of Athena Miki, or her Roman counterpart Nerva Victoria, are few, however. These examples were catalogued by Alexandra Lugati in her 1981 dissertation of classical and classicizing Miki representations. I'll show you just a few of these examples. One is this high relief from a killer associated with the Domitianic Porta Romana at Ostia. One is that I don't have a photograph of, it's in the Burlani collection in Venice. The probably comes from the temple of Apollo Pythias in Triton and Wharton. Two are from the temple of Apollo and deified Augustus at Bularegia in Tunisia. These are two different statutes. One, this is the same statutes we use. One of Nerva Victoria's from the Sanctuary of Spletius at Balabarai near Sardini. And another, a helmeted one, the lion on the prowl of the ship with a shield in your saw. It was formerly in the art market in her presence. The current location is unknown and we do not have a photograph of that one. But it is clear from the variation in the iconographical elements, the range, the dates, the styles, that these other examples of Nerva Victoria do not stray from a single Greek source. All these accounts are winged and none bear close similarity to the Glencairn or the Sergente statues. The degree of wear on the Sergente Dominique suggests, as Professor Marroca has explained, that it was displayed outdoors. The excellent state of preservation of the Glencairn and Nerva Victoria equally on the front and back suggests that it was displayed indoors or in a sheltered location or if outdoors it would not have been displayed for a very long period of time. Perhaps the Nerva Victoria was set up in a theatre where ideal sculpture was common. Or, it would have been an appropriate scale and theme for a slay and carousel in a time known villa or an imperial residence, an opus nobile, to be enjoyed by a Roman patron. If outdoors for a short period, it would have been incorporated into a Roman commemorative monument of modest proportions. Perhaps a victory monument, a riding of a prowl of a ship, as the Roman example in an art market that was cataloged by Lelaki or this Calvinistic version from the Agora of Cyrene. Unfortunately, we may never know the original setting of the Glencairn and Nerva Victoria or that of the Sergente Dominique in its Greek or in its Roman phases. In summation, I agree that the relationship between these two statues is close and one can conclude that the Glencairn and Nerva Victoria is a Roman adaptation or a variation of the Sergente Dominique or another statue of the same type but not an exact copy. This is an interesting lesson in how much is left for us to understand about the sculptural purpose of the ancient world, about Roman copies, adaptations, or new works, and this validation of the importance of publishing ancient objects and collections, even though they may lack convenience, since there are critical bits of information that can be learned and connections made. There's so much more that one would like to know about these two statues that we may never be able to uncover because of their lack of context. Thank you very much. Thank you very much. Thank you Professor Romano. We have time for some questions. to comment, Thank you. Thank you perché ogni tanto sento variante ogni tanto sento riproduzione ogni tanto copia o retica che cosa poi abbiamo visto anche quel punto quello di sorta di un bello punto di visualizzazione che ogni tanto rimangono sulle sculture anzi rimangono anche più sui dati come garanzia di qualità sui dati il punto è però in basso bisogna dire anche dove rimangono e ecco la domanda è che cos'è? copia, variante, elaborazione professore rispondere a questa domanda significa rifare la storia dell'arte greco-ronana ovviamente la distinzione non battente i termini migliori sono ovviamente sempre quelli tedeschi tra copie weiterbildung unbildung e così via noi in italiano non abbiamo la stessa capacità di distinguere le singole diciamo pure varianti noi possiamo pensare a copie assolutamente fedeli all'originale poi ci sono le io le chiamo repliche cioè quelle che vogliono essere in qualche modo legate all'originale ma non lo seguono perissimamente e rimane che sia il caso della glenker rispetto alla sorgente teneviche non è una variante è una replica che è una cosa un po' differente la variante cambia completamente o quasi completamente l'originale qui non c'è un cambiamento totale è una variazione nei singoli dettagli della lavorazione ma non nell'insieme nell'assetto complesso della stata naturalmente poi bisognerebbe capire queste varianti queste piccole varianti da che cosa dipendano per esempio una cosa che mi ha sempre colpito e quanto sia otteribile questa soluzione qui è veramente è veramente orribile e mi domando come era risolta solo per questa situazione in quella statua mi è venuto il dubbio ma anche in questo caso è un dubbio che quando è arrivata a Roma la statua fosse flamentaria proprio nella parte bassa e fosse stata ricostruita a Roma o almeno che la parte bassa fosse stata ricostruita e quindi questa copia questa replica risenta del restauro eseguito a Roma di quello originale ma nuovamente anche qui non abbiamo prove in merito tranne la possibilità una delle prime volte di vedere di vedere un originale a fianco a otra replica e quindi la possibilità in qualche modo di cominciare a pensare quale fosse il modo in cui i romani intervenevano intersezio in jenna presentazione yesterday are these little struts are these just all breaks from a longer tetapos coming down so reading the the edge of the overfold is broken and those are where the undercutting was so that their struts are very deep undercutting they're left behind for the edge because I wonder how they might relate to the humbleness that's going on here if at all that we're trying to understand in terms of the recutting my question can you look to the rearview of both these these were not clear to me when I was in Rome because of the balance but they look like they're two pillar folds in the middle of the bottom of the statue and they haven't been raised except in quiet conversations and I'm totally baffled by them and I wonder if somebody could try to explain them or characterize them any thoughts or did you want to say anything about this no 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 sono nuovamente taglie o fratture del mano che nella fotografia dà l'impressione di essere delle pieghe verticali ma non ci sono non ci sono è un'impressione è un'impressione della fotografia è fatto bene a dirlo perché bisognerà un attimo revisionare un attimo alcune documentazioni fotografiche per la pubblicazione finale la pubblicazione i sceglianati la pubblicazione di con burra ma a della l'impelle delle ricette 주고 una migraie di il la dell è l'antino-sindello, e ha un po' di metà di metà di legge, e ci sono altri che hanno un po' di metà di metà di metà, ma un po' di metà di metà, ma un po' di metà di metà. So, I think first Mariana Batten said, this seems to tell the viewer, this is a correct, wonderful copy. But now of what? There is the plaster cast in between. And maybe you can just go and see how correct it is by measuring from the plaster cast to the finished, polished marble sculpture. And if, and I think it's a good explanation if Criatina La Roca is correct, that the lower part of the Pimper, Pimper, Athena, is a Roman edition, newly invented because it was broken. then it says, this part of the statue is really well copied from the plastic cast, from the jess, from the invention how to do this, which was done in maybe clay, maybe as a plastic cast or whatever. And otherwise those measuring points should be somewhere else on the statue, not on the other part. That's very interesting, thank you for that. Thank you, Eugenie. I have a question for you and for Professor La Roca. Regarding the 80s and the presence of snakes. Because in this application, if I am not wrong, you mentioned the presence of holes and tablets for the snakes. But the comparison you showed of the upper part of the body and the eggs and the breast, As far as I see, there are no indication for holes. So, I would like to have more information about the Glencairn Roman statue and the Greek one. On the Glencairn statue, there is no evidence for any additional bronze snakes. The snakes are carved from marble. On the Sturgente statue, I'll let Professor La Roca tell us. In an example of the statue in Rome, I didn't find the evidence for the addition of bronze snakes. But I would be really pleased to hear the explanation. Here, there is a fracture exactly in the point in which the serpent should be applied. There are only two serpents, one in one part and one in the other. In the other part, there is not a fracture because the fracture is total. In the other part, there is a small fracture that impedes to understand the way it is applied. But it is possible in the conflict with Glencairn Roman. In reality, as always, there is a conflict between the two that can clarify certain things. But on the rest of the leg there is no evidence. No, no, no. No, no. Ci sono e sono molto evidenti davanti da gente. Però se guardiamo solo… lasciando stare la Piker per un secondo, se guardiamo l'Originalde ci sarebbero solo due serpenti speculari… Esatto di neatly. …kigiunti o realizzati in marmo. Qui è una discussione che potremmo fare anche nel pomeriggio. Per capire se le addizioni erano in marmo o in bronzo. Non è possibile in questo momento dirlo in questa maniera così precisa. Secondo Olga dovrebbe essere in marmo. Potrebbero, secondo me, anche essere in bronzo. Però il momento è una cosa che non è discusso. Ma anche perché la parte che so è questa, questa parte che è buona, è stata lavorata, immaginario. Questo prende un'impresa che fosse in bronzo, come un altro campo, altre piccole cose. Però questo non è. No, è interessante di aver detto che a proposito della parte che ci convince meno. a un punto di misurazione. Questa è una situazione molto interessante. Chissà. Magari siamo noi che ci aspettiamo delle cose, come al solito per le decenni. Però, ritorno per un attimo alle amiche di Schrader, di Caraccia del 41. In quella serie di 10 repliche, si vede molto bene che è proprio la parte inferiore che spesso cambia. Ci sono, in alcuni esemplari, ci sono dei piegoni, quasi, c'è l'altra che chiamava, quasi, i grafici, altri sono più severe. Qui, purtroppo, non possiamo cliccare, piano piano, abbiamo due sole, anzi, siamo fortunati da avere le due. Siamo molto fortunati da avere le due, con originali, tra l'altro. Quindi, questa è la semplice di considerazione sul modo in cui i dettagli possono andare da una volta e dall'altra. Questa è una domanda. La terza è un'aliente. Cosa ci sono ancora di un'aliente, un'aliente, a dentro, un'aliente, che ci sono ancora di un'aliente. Sì, un'aliente tipo inaliente, un'aliente, anche per chiama, come peplos, la bravoria fluttuendo la linea con la feet non touching That's why Any questions? Ok just to give you the program for the rest of the day we're going to break for lunch in just a moment and I think lunch is nearby it's just nearby and then we'll resume our discussion at 3 o'clock this afternoon in this room. We've already alluded to professor Laloca's paper numerous times today but we will have the opportunity to consider all five papers together and new observations and thoughts we have about any of this or that we've been looking at so please come back at 3 o'clock and I want to thank all of our speakers today for their really thought-looking presentations and I look forward to the discussions after noon Thank you Thank you I would like to share the last part of our colloquium and we will have time and have time for the discussion and questions relating to the text and the studies and of course on the four lectures and four papers for today and every contribution from all of us all of you is really well done so it's up to me to summarize the conference but I think that first I have to go in for you questions and some contributions from the public so any questions? Thank you Thank you Eugenio do you want to take a moment to take a moment to take a moment to take a moment It's difficult to take a moment to take a moment It's difficult to take a moment to take a moment and of course the important ideas this morning have ulteriormente chiarited how difficult to reach to a definitive solution especially when there are many many things to in any case there are some there are some many things that everyone is convinced that we are there are many things that among language so I I do a this we see that it has a relationship between the language and the the stato appuntichero. Questo già mi sembra che sia un elemento di straordinaria importanza nell'ambito della discussione. Inutile dirlo che poi da qui in poi si aprono tutta una serie di problemi che restano e, ahimè, temo che non potranno essere definitivamente risolti. Uno fondamentale che, a me dal mio punto di vista, ha determinati elementi della stato Putiker che sembrerebbe far pensare a una ricostruzione della parte inferiore che in qualche modo non è presente o comunque non dovrebbe essere presente nell'originale Deco, proprio per la qualità certamente secondaria del modo di modellazione dell'immagine. Che si tratti tuttavia, in due casi, una figura che è in apparenza stante, cioè che scende, che è verticale rispetto allo spettatore, ma il cui panneggio cade dietro, creando una curva alle sue spalle, anche questo è evidente. E qui Scandamolla, che abbiamo visto molto importante, su cui forse, sapete bene, che ci sia un'ulteriore discussione se questa onda che si deve creare alle spalle possa essere considerata un elemento che spinge a pensare a un'atena di Ke, oppure a un'atena di Pur. Se un'atena di Pur è un'altra cosa, cioè rientriamo nell'ambito di una logica più di comune nell'ambito del quinto secolo avanti visto, ma bisogna capire per quante giorni si crea questa onda alle sue spalle. Quindi una serie di elementi a cui si aggiungono naturalmente i problemi dei perni alle spalle della statua sorgente delle quali bisognerà capire se si tratti di perni, di fori esistenti già nell'originale, oppure se sono delle aggiunte di età romana. E naturalmente se sono aggiunte di età romana capire perché sono state realizzate. c'è soprattutto una serie di elementi a cui io ovviamente non voglio e non posso dare una risposta, ma che comunque sono elementi di discussione fondamentale, dai quali mi precede ovviamente sentire altre idee da parte dei presenti nella sala, proprio per cercare di avvicinarci in quanto più possibile alla, non dico alla fondamentale, perché in questi casi è un po' complesso, ma certamente di poterci avvicinare al vero, a quella che potrebbe essere la soluzione iniziale. Questi secondo me sono i temi fondamentali. Resta poi il problema, ma questo è il problema che è il problema che si trattasse di un'ateniche. Ateniche, noi sappiamo che l'ateniche atenese, quella dell'acropoli, era Atheros. Sappiamo anche che la statua del 425-424 a.C. era un agama, quindi un agama che si aggiunge alla statua arcaica, all'oxomano arcaico che era già nell'area e che doveva rappresentare probabilmente la Dea seduta, come noi la vediamo su alcuni dei rilievi emotivi e sulla balaustra del 7 di agama. Anche da questo punto di vista direi che il rilievo emotivo di IV secolo a.C. che mostra l'oxomano arcaico e a fianco la Dea seduta, rientra però in quella logica proprio comune nella fine del V o poi nel IV secolo a.C. di rappresentare la Dea vivente la Dea vivente a fianco al suo xomano arcaico, un modo di rappresentazione di cui ci sono altri esempi nella cultura greca del periodo. E poi dopo di che c'è il problema, e anche questo lo abbiamo visto, della citazione di De Mostre, il quale parla appunto di un taglio delle ali di Nietzsche. De Mostre parla di una Nietzsche, lo Scorio parla invece di una tela, Nietzsche. E quindi praticamente noi possiamo sempre dire che lo Scorio non abbia ricevuto il messaggio indetto di De Mostre. non lo so, questo ha anche un altro dei punti in questione sui quali sarebbe necessario un approfondimento. Mi pare che già c'è un portacale a fuoco, molti elementi che secondo me li avrebbero un'ulteriore discussione, ma già devo apprezzare che le osservazioni poste stamattina e da Oglia e da Irene, che ha dato un'interpretazione finalmente molto più approfondita sulla base di fotografie migliori della statua, e insomma praticamente in tutte le lezioni stamattina hanno molto migliorato la nostra conoscenza. Prego, Annalisa. Annalisa Mona. Sì, grazie. Ne approfitto per inserirmi nella discussione subito con una notazione a proposito delle statue perché secondo tutti parlano italiano. Giusto. Delle statue di Niche, Atena Niche, relativa al tempietto dell'Acropoli sul Pyrgos. Da quello che abbiamo sentito oggi e dalla documentazione che abbiamo, credo che si debba portare non di due statue, ma almeno di tre. Dalle documenti epigrafici di cui abbiamo parlato oggi, sappiamo che esiste una distinzione precisa tra la gamma nuovo, Neos, e Neon per essere precisi, e quello Arcaion. Credo però che quella Arcaion non sia il primo Aram, perché Rosanna nel suo passo ha una maniera piuttosto specifica di Xoanon. Quando parla della Niche, che qui non chiamate Niche, ma Niche Attera, dice che questa Niche è uno Xoanon, e poi aggiunge ci sono gli attributi, eccetera, eccetera. Dalla mia esperienza personale, Rosanna è di solito molto attento nella scelta dei termini, quindi io non credo che si possa soccorrere l'Oxonon Arcaico all'Agamma, cioè, scusate, l'Oxonon all'Agamma Arcaico. E se fosse così, si spiegherebbe perché la Niche vista da Rosanna sia Attera, perché naturalmente mettere le ali all'Oxonon, che già doveva essere rivestito, e così vi mette i panneggi cambiati periodicamente, eccetera, eccetera, naturalmente qualche problema lo dava. Così, volevo solo segnalare questa differenza presente almeno nella terminologia, poi che questa sia in tutta chiave di ventura, non lo credo, ma una differenza tra Xoanon, Agal-Maccayon e Agal-Madeon, il tuo nuovo dei tre, ovviamente quello del futuro del tuo numero, ovviamente una situazione in questo senso forse esiste. Non ho capito tutto, ma è una questione di Xoanon e Agal-Madeon. Normalmente, Xoanon è molto corrento, ma in questo caso non è possibile in questo tempo, in questo tempo, in questo tempo, in questo tempo. si parla di Xoanon, c'è una situazione che si può parlare su questo senso. Il tradizionato al giusto di ero, il suo sviluppo di antropologia che sa parla di uno, ma in questo tipo di ero, invece, c'è un'imperazione di armoglione appara, perché, quando spiego di ero riferimento di ero, quindi, quando mi tratta di riportare i ero, quando mi parla di esistra, quando mi parla di ero, allora, si parla di esempio, Allora, ancora due osservazioni a proposito. Sono d'accordo, è troppo poco per poter dire che sia effettivamente così, ma vuol dire che le informazioni di Rosanna, di solito, per mia conoscenza in questo momento, sono appinte da guide locali. Normalmente c'è qualcuno che l'accompagna ai custodi del santuario, qualcuno al quale lui si appoggia e da quale chi è la spiegazione. Se così fosse, vorremmo dire che in luogo si parlava di guide locali, sapevano di un oxonon, quindi comunque sia l'informazione viene filtrata da queste persone e arriva a Pausania. E poi, seconda osservazione, da quello che abbiamo visto, lui è molto preciso, nel senso che addirittura esiste una scelta molto accurata dell'aggettivo vecchio nel testo di Pausania. Cioè, lui deve dire vecchio o antico, Arcaio o Maraion, sta molto attenta ad utilizzare l'uno o l'altro. Vuol dire che uno scrive per scrivere una cosa qualsiasi, ma sceglie le parole da utilizzare. Questo vorrebbe dire che qualcuno alle orecchie gli era arrivata la voce dell'oxonon e poi dell'arma. Insomma, ecco, comunque sia una riflessione che ho fatta di quale dovrebbe. La domanda la facciamo per te, dal punto di vista di grafica, che sta a nomeare l'an nuovo? Si mi fa a nomeare l'arcaio? No, lo so. La via o non lo può andare? Non c'è una menzione di un nuovo, c'è una menzione di un nuovo, c'è una menzione di un nuovo, ma c'è una menzione di un nuovo, chi può pensare che dovrebbe essere un nuovo. Non so se sia così automatico, nel senso che qualsiasi, semplicemente la statua che viene mantenuta, la statua antica che viene mantenuta all'interno di un tempio. Non so, per questo le forze ha bisogno molto. Non so se si manda un arcaio, manda un arcaio, manda una linea del vento? Comunque, si parla di un arcaio, ma anche nel senso di, lo dico, non è chiaro che è una statua culturale, che è questa menzione di un nuovo. E' una cosa sulle ali, ali non ali, guardando i tipi statuari di, e questa forza è una ricerca, dove tutti meglio per impegnarci, guardare come le strade di Nikai, anche le strade di Nikai, che le territorie sono trasmesse, e in alcuni tipi si vede bene che si riduccia all'immigrazione delle arci, delle repliche. Alcune arciano le arci, alcune invece le arci. Questo diventerà molti fattori, ragioni di economia, ragioni di collocazione, che ci sfuggono. Quindi, nel caso dell'idea che abbiamo scritto oggi, è stato un amicato, che si è bussa l'idea della statua da un fruttone che arriva a Roma, di Atina, arriva a Roma, diventa un'antina vittoria, e poi la origina una serie di rettiche senza altro, sulla base di quello che vedo sempre, quello che so è che le strade di Nikai, che hanno le arci, vengono poi trasmesse anche senza arci, e questo può essere un caso simile, insomma. Comunque, forse la ricerca va ad allargare, vedere arci, ovviamente un, due tipi, ma anche se non anche, bisogna vedere le arci, le modalità di trasmissione. Questo mi sembra un contributo importante da seguire, cioè da allargare, lo spettro della ricerca, più in generale, alle figure di Nietzsche, per vedere le modalità della ricezione, che si viene a completare il quadro e a renderlo ancora più complesso. Non so se le osservazioni che faccio hanno o non hanno rilievo, ne ho parlato prima anche con Lucille Faredo e con Gianfranco, e quindi ne parlo qui, voglio dire che voglio. Io volevo spostare il discorso su un aspetto tecnico che è rimasto un po' in ora, e cioè io in passato sono stato colpito enormemente da una specie di intervista che ho avuto con un artigiano del mano che mi ha detto una cosa che non ho mai dimenticato, e cioè qualunque cosa può essere attaccata a qualunque altra, ma è fondamentale il modo. Alcune cose si attaccano in un modo, altre si attaccano in un altro, e da quello dovete partire, perché a seconda di come una cosa è attaccata potete capire che cos'è. Allora, la prima questione che mi ha colpito è la questione delle ali, che nella ricostruzione del professor Lavocca sono in bronzo. Se noi pensiamo a com'è fatto un'ala di bronzo, prendo il caso della ricche della dittoria freccia, che è romana evidentemente, ma è un esempio, un'ala di solito è fabbricata in questo modo, in bronzo, con un'interaiatura di metallo, intorno alla quale viene modellata la terra di fusione, dopodiché la cera di fusione, e poi il cappotto. Un'ala di solito è fusa con tecnica diretta, perché se fosse fusa con la tecnica indiretta, l'unione delle due metà rischiava che poi si apre. Allora, viene quasi ovvio pensare che il modo più semplice, cioè quando si fa un'ala in fusione diretta in questo modo, l'interaiatura prosegue con due perni che escono, e il modo naturale per attaccare un'ala in fusione diretta a una statua di marmo, sono due fori che attaccano. Viceversa, se noi fabbrichiamo un oggetto in pietra, di qualunque tipo di pietra si tratti, ed è un'ala dello spessore di più di 7-8 centimetri, noi non possiamo attaccarlo con dei perni, perché è impossibile forare un'ala di questo spessore ed evitare che si volga. E dunque non c'è che un unico modo, modellare un tenone, scolpire un tenone, che avrà una mortasa nel punto in cui deve essere attaccato. Questo farebbe pensare che nel mondo antico le persone facevano le cose più imprevedibili, ma se noi ragioniamo sulla probabilità, questo farebbe pensare che il tipo di giunto che è previsto è un giunto per una giunta in pietra, qualunque marmo sia, piuttosto che in marmo, come massima probabilità. Questa è la prima cosa che mi dico. Secondo, un'altra cosa che ho sentito dallo stagbellino è che è assolutamente fondamentale quando si giunge qualcosa evitare che l'esposizione della scultura all'aperto, che la fa scaldare fino a 70-80 gradi quando è scosta al sole estivo e poi la fa raffreddare nettamente sotto zero in inverno, possa provocare movimenti della parte aggiunta perché nel momento in cui comincia a infiltrarsi dell'acqua nel giunto e l'acqua ghiaccia, stacca la parte, si formano le muffe ed è quasi certo che a questo punto la parte si staccherà. Allora, le ali che sono state, le mortase scolpite per le ali, sono state scavate nell'eggina dove ci sono le scaglie che non sono state toccate e che sembrano fatte apposta per far infiltrare dell'acqua fra l'ala aggiunta e la superficie originale. Allora, ripeto, è sempre possibile ogni cosa, ma la prima cosa che viene in mente è che la mortase è stata scavata in una scultura che originariamente non la prevedeva. Questo è la prevede. Seconda cosa, anche questo mi aveva molto colpito, voi mi diceva, parlando di noi studiosi, non tenete conto che per attaccare qualcosa che tenga bisogna sempre che abbia almeno due punti, due punti di fissaggio oppure una tecnica di fissaggio che sia sufficientemente, come dire, sicura. Allora, le braccia della statua sorgente in un caso sembrano rispettare questa tecnica perché se noi prendiamo il braccio destro abbiamo una giuntura, come dire, molto semplice, cioè una superficie più o meno piatta con un puntello, ma qui è scavato il secondo puntello che soddisfa questa condizione. un attacco, un attacco in basso e il secondo braccio non si muove. Viceversa, se noi andiamo nell'altro braccio così come è costruito, noi troviamo che, reggendo una livellanda, avrebbe unicamente una superficie di giunzione piatta con un puntello di metallo rotondo. Questa cosa, se ricordo bene quello che lui mi dice, in poche settimane, in pochi mesi, la gira. Non sta fermo. Non c'è niente che la possa tenere fermo. Occorre che abbia un secondo punto. Siccome non c'è una mortasa e non sono stati utilizzati, come dire, esperienti che permettano di bloccarla alla base, occorre che quel braccio abbia un secondo punto di appoggio, altrimenti lo terrà. E quale può essere il secondo punto di appoggio? Io, quando ho sentito la relazione del professor Leppin, ho pensato che se noi immaginiamo una tenea, una lirlanda, fa sistema, nel senso che se è sufficientemente legida, crea quattro punti. La spalla, la mano, l'altra mano e l'altra spalla. Ma potrebbe anche essere, per esempio, una lancia. In ogni caso, diciamo, rispetto a queste informazioni tecniche che mi sono state date, quel tipo di giunta che non prevede nessuna, come dire, espediente per impedire la rotazione del braccio, farebbe pensare a prima vista che sia necessario pensare a un secondo punto di appoggio del braccio, altrimenti non l'avete ottenuto. Allora, se è così, cioè, se le ali non c'erano, originariamente, se il braccio poteva reggere una lancia e se abbiamo una copia che non ha le ali, non verrebbe da chiedersi se effettivamente questa non sia, come dire, lo stato originale della figura, cioè di fatto, ma per ragioni tecniche, chiaro, non per ragioni iconografice, in questo caso. Non so se hanno valore questa osservazione, insomma, visto che ne abbiamo parlato, mi sembra opportuno in questo caso. come? I think these are very, very important and useful points, and as I've been listening to the presentations yesterday and all morning, and thinking about the statue, and trying to understand the phases, which are very difficult, to date exactly, I think there's nonetheless the possibility for some of the cuttings, pins, mortises, and dowel traces on the statue, the possibility to present a sequencing, as Ludovico has begun to do. And I have seen the possibility of at least three, if not four, ancient phases, and no post-antique that I see. No Renaissance or 18th century phase. And I'll begin there by saying I would expect, and I did expect, to see the addition of legs and head to the statue in a Renaissance or 18th century restoration with a nice big drill hole for a pin for the attachment above and below. And those weren't there. And so, again, my hypothesis would be if its statue was found in the Renaissance and entered a great collection and was there for a long time before coming onto the market or recently, it was never restored and displayed because it would have been given a head and legs and feet. The left arm when that pin drill hole was added for the arm. I don't know what phase that was, but I skipped by my observation yesterday that that's not a preparation, that's a broken surface with a pin in it. So I don't know where that is. But returning to earlier phases, I agree with Ludovico. I tend to agree. I'm inclined to agree with Ludovico and Olga and I think Irene that we have a statue of Nina. We then have wings cut through the aegis which was not designed for a statue with wings in a second phase. I think from the workmanship, the big hole in the center of the back should be a third phase of elaboration maybe for a pediment as Olga suggests. And this goes, I think, with what Eugenio suggested. If the flowing drapery in the pit-time statue didn't belong to the original prototype, then the depth of that example isn't an impediment to the Soriente statue being put into a pediment. What I don't understand well, if it's a separate phase, or along with this third phase, are those pins at the bottom which I think are insufficient for a Renaissance attachment of legs on which the whole thing rests, and the large cutting inside, which I think, following Ludovico's observation, we think what kind of support might this be, and it tends to be a patch for some kind of damage that was covered there, and then we have the other little pins. So this is my preliminary taking of the phases, and I think these things may be moved around, and I'd be very interested in the opinions of others, but I think to really move this forward, there are three things that are necessary, and I ask whether the Sogente group might not really pursue this. One is the analysis of the metal that remains, the metal in the back, what is that? Is it lead? Is it iron? What is the composition of the bronze pins? So we know what we're dealing with. Two would be a series of very exact archaeological drawings that trace and map all the cuttings and all the pins. And third would be given the fragility where surface not making molding a cast but doing a very exact laser scan of both the Sogente group statue and the pit carn statue, so we can really understand how they're similar, how they're different. We can manipulate the angles of views, we can understand what we're dealing with. And all of this is technically well within our means. And I would encourage the Sogente group to pursue this so we could really better understand this fantastic statue that you rescued. Thank you. Posso aggiungere qualcosa? Devo dire che abbiamo fatto, credo, abbiamo reso la questione delle molte vite di questa statua ancora più complessa e ci sono due questioni che vorrei cercare di capire meglio con il vostro continuo. Una riguarda un'osservazione che Polka Comandianci ha fatto riguardo quella parte della gamba sinistra scantellata poi ci ha mostrato che quella tecnica di lavorazione esiste nel retro degli statue del frontone del partenone quindi in pieno quinto noi dobbiamo ma come può reggere come può unirsi questa tecnica di lavorazione per una giunta con l'ipotesi che questa Atena di che punto interrogativo abbia una lancia perché se ha la lancia non può dire la lancia impedisce che qualcosa si attacchi sulla gamba seconda questione a me sembra ho studiato braccia e lancia recentemente che la posizione del seno the breast è troppo alto per una lancia la posizione del seno è troppo alta per un braccio teso a reggere una lancia l'armi l'armi è con la l'armi è straight e l'armi è elevato non straight ma che sia il suo ruolo? non è così non ho mostrato le rilisci dove aveva il ruolo mi sento che l'arm era l'eye beh, devi ricordare i rilisci che ho mostrato i rilisci i rilisci i rilisci ma come si può e ne metti la spare con il rilisci la spare non si può fare la spare la spare la spare la spare l'è l'è la spare la spare la spare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 avrebbe dovuto avere un tenone molto lungo, avrebbe dovuto avere un perno veramente molto lungo per attaccare la statua alla parete del fruttone. Non è breve, ma è molto molto lungo. Non abbiamo molti esempi, non conosciamo molto, questo è chiaro, ma il seno beneficio è a causa proprio di questa eccessiva profondità della statua. Sì, ma è il profilo, è abbastanza applicata per te, è piuttosto applicata per te. Non è così, avanti, io credo. Basta vedere le fotografie comunque. Ecco, cioè, una cosa che io continuo a nutrire in tutti i casi di un'Atena di V secolo a.C. a.C., io parlo di un'Atena di V secolo a.C., è lo spostamento del panneggio all'Espagna. Questo spostamento, questo movimento del panneggio non è che io conosca riconoscibile in nessuna statua di Atena stante di V secolo a.C., la prova rossa si muove in un altro modo ed è un'altra tipologia. Come, cioè, questa non è realtà. Questa è come ciò che aveva già pensato Carta per voi come hanno visto l'impressione è di una figura che sta planando a terra, spinta dal vento. Questa è l'impressione, dopo di che si può discutere se ha le ali o non le ali, ma che sia una figura che plani, mi pare inevitabile a giudicare dal paletto. Allora, se questa è una figura che sta planando, la ipotesi di Lovico Maudo mi lascia sconcettato, perché nella realtà di fatti non può avere una lancia in mano, perché non può coggiare la lancia in terra, non la può coggiare, la dovrebbe avere spostata all'altra, e quindi non sarebbe la forza che la stessa. Quindi, deve essere un'altra cosa. Se non è un lancio salvato per la corona, deve fare un'altra cosa che noi non sappiamo, ma certamente non con un lancio, per quanto io posso applicare sulle iconografie della tecna del XX secolo a.C. Io ragiono solamente a livello di rapporto iconografico, non posso dire altro. Un'altra questione che resta aperta è quella della pieghe da giudicare sul tempo. Certo. Quella è un problema che abbiamo dimenticato, che molti attratti da una questione dei fori e delle fasi, delle ripetute vite in questa statua, ci siamo dimenticati di cercare di capire quale può essere la motivazione di quella rivettatura che non compare qui in nessun altro punto del perro e che qui ha una consistenza del tutto diversa, sia dalla copia Picker, sia dal resto del modellatore del perro. Io non sono riuscita a trovare una spiegazione, quindi non mangio se Polgatavaglia ha qualche suggerimento, della sua conoscenza bassissima di materiali. I'm trying to... Do you repeat the question? I was asking about the fall below the Aries. There is a different treatment of the surface of the petros here. Completely different. Ah, because of the little forms? Yes, yes. Well, do you know the little forms appear on the west side of the port? They are already in the fourth area. So we do have some... Combined with non-glue forms. So already this appears in the bottom. Thinking about this, I think it's important to see that the enrichment of the copy Yeah, yes. Or of the, let's say, of the Roman statue is something important because it says this Roman statue was to be seen from all sides all around. Why would you otherwise enrich this little part here? Your focus. So it was not in the panel. The big panel was not in the panel. And she... But it's pretty sad that you, which you can see from the back side as well. Yeah. I was thinking that it's something that the Israelites called me between the port, between the region. So that the group and the picture. And this one, Indomito, was not in the panel. Exactly. I just wanted to come back to these little folds beneath the large cutting in the back and Olen points out rightly that they're on the Parthenon. But if I remember correctly, in all the Parthenon sculptures, there's some logic to their placement. And here, I don't understand why they're here. And Ken and I were just looking further down in the apoptic mothers. If I'm seeing correctly, they're made here again. So it seems illogical. I don't understand why they're there or when they were put there, if that's part of the original or if it's some later treatment. I don't know. So if somebody has thoughts about this, I appreciate it. Thank you. Thank you very much. I would like to give you a really a post-tile, and I would invite you to be the professor Da Roca and Irene Valdomano to, studying again, ex-novo, the PIPER, to give us the correct position not the position of a museum, but to imagine how they should be the originate greco and the Roman version of the statue imagine in the ancient context to try to identify the position the most correct position anatomical of the respective images. I believe that for this is also useful to have in the first one, a Ken, a design extremely chirurgical of the points, of the details, of each single detail but also to try to understand for in the future if we can distinguish between the pieces or the adjustments of the Greek and the Roman just from the point of view of the technical point. I would like to see these arrangements but it would be important forse to begin with from a point of view of the technical point. this probably would also allow us to analyze in a way parallel the works before putting them in conflict for analogies and divergences because I would not want to explain the one and the other or to serve of some aspects that we have in the original and in the copy but only at the end to proceed with these virtualizations of character more directly and more than the and this is for a publication more definitive della statua della generazione sorgente e una updated version della Picker forse potrebbe aiutarci per cogliere nessi ma soprattutto differenze che sono artistiche culturali Non dobbiamo dimenticare quello che ci ha fatto ricordato Basiliano cioè il fatto di una tradizione di un modo di copiare figure adatte che perdono le ali frequentemente e quindi il discorso va ricerciato e complicato purtroppo sì però ecco un'analisi parallela per capire esattamente le singole statue nei loro rispettivi contesti perché anche la parte inferiore della Picker di cui abbiamo parlato oggi potremmo anche spiegarla come un'invenzione del copista nella rifunzionalizzazione del primo tipo ad un nuovo contesto ad una nuova funzione quindi quelle gambe quella parte della testa che non forse non doveva scendere così svolanzante potrebbe essere stata reinterpretata o creata inventata dal copista perché era funzionale ad una nuova riedizione ad un aggiornamento proprio della funzione stessa della strada con questo spostamento così accentuato delle prime pieghe da questo lato no sto parlando sto parlando della Picker cioè di nuovo ragionando sulla Picker è corretto individuare questo panneggio così esuberante un po' illogico questo potrebbe essere stato determinato da un cambio di funzione cambio di tipologia e quindi una creazione ex post del copista che magari una sua logica voleva darla alla chiama e quindi il punto sarebbe soltanto una cosa per di valorizzazione corretto 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 certamente le due statue presentano differenze specialmente le masse verticale io ho fatto già sembra nella parte superiore gettata dietro sembra quasi che si si svolta nelle spalle mentre invece nella parte bassa sembra recuperare quella linea quella linea che e questo è un'altra cosa strana che non si riesce a vedere da che cosa dipende questa differenza di orientamento delle due parti della statua però c'è c'è questo è veramente vero ma avete ragione e questo è assolutamente necessario fare come prima cosa due esempi uno stratigrafico della statua che è sorgente per rilecuperare tutti gli elementi tecnici che dalla voce a tutti si può perché altrimenti ci si perde questa marea di scettifoni e di perdono così è una cosa pazzesca che si possa arrivare a una soluzione e questo è un altro paramatico non solo con tutto ma bisogna non solo con tutto ma obiettivamente bisogna tentare di trovare il massimo delle soluzioni e delle proposte di costruzione proposte che si basino proprio alcuni elementi di scuola che vanno adesso io la necessità di un'analisi proprio da parte di uno specialista nella lavorazione di un armo come si possono avere dei pezzi in queste determinate condizioni cerco e ovviamente leggo che la statua evidentemente non è arrivata a Roma nelle migliori condizioni quindi i pezzi devono essere scambiuti più che una volta probabilmente dovevano essere fratelli di una settimana probabilmente qualche storia non possiamo avere qualche maggiore ragazza a questo punto a questo punto no sorry I have a question but it's random and has nothing to do with what we've been talking about sort of it is connected to this conference but it's about the detail in Dr. Thompson's talk and if we could just have your PowerPoint it actually does have implications for this sort of general discussion and if we could just look at one of the base paintings that you have there was a pedicade accurate figure that showed you said Iunaike and it's a warrior's departure so it's the image of right and my question is about the Nikke there who's pouring from in her left hand is holding a caduceus and sorry she's holding in her left hand a cabuceus and I'm wondering what that means because this is not a normal iconographical element for Athena Nikke and so then it makes me wonder who this winged figure really is is it Nikke or is it Iris? Iris no first point I wouldn't say this is a thing I think ok ok and another question if she is she really is Nikke or Iris we are safe that's an inscription inscriptions don't always go with the figures that they appear in here as we've seen on something like in Athens I think it's under 1629 in the National Museum where the inscriptions are kind of all bunched together and we don't know who belongs to what and Nikke do we have to take Nikke as a a a label as a figure or can it be something as basically this would be possible yes I would agree first the question the iconographic question of the Karakaion we have a series of early classical oasis showing Nikke with the Karakaion giving the nation or having in the nation with the gods or alone where should there is a Karakaion so the Karakaion is the oldest inchmarked between years and nine it does not work we have a lot good proof for Nikke Karakaion it is open for interpretation but I think it is not that unlogical she is sort of a messenger so she is if I interpret her as an expression of the effects of the gods the gods work into human life then she is also in such an intermediate position like a messenger she is not exactly a messenger ok that is and just lastly on the inscriptions I need to confess you can't see them on the picture and I forgot about the exact placement of the inscriptions and as far as I remember there was no doubt here this is the thing I was putting this ways particularly because it can be closely associated with a second one which is this one is the painter this one is the painter this one is where the object is inscribed to Kaun where he takes his name from and the other one he is inscribed as Apanos and all the names are exchanged besides Nikas so there is a lot there is a very clever game with names with inscriptions in this series so they are referring to the persons in each of the cases so even though I cannot tell you exactly where Nikas is written here I forgot that I remember it is I think it's safe to say it is really the name of this okay I don't want to drag this out because maybe other people are not so interested but I I have two things to say in response to what you just said and I believe you that this may be similar to Nikas if you have this character I don't carry by Nikas okay why would she be carrying this in a libation scene okay if she is bringing the figures she is not bringing the victory it is just a libation scene and well one point one of the different scenes of Nikas are libation scenes yeah and when she is giving libation to the warrior setting off the character of the warrior I would think that is prolapsic that he will be a victorious populate I don't know if this is too taking the situation too far but it is libation is the thing of beginning things in this case going to war Nikas is involved this is either you wish success or she already guarantees success to different than interpretation but I think this is the this is the logic that is in okay I just yeah I okay we're assuming the warrior setting out for battle I don't want someone who said that he could be dead too and it because we have such scenes of two words and okay let's leave that aside you mentioned just a moment ago if I understand correctly that this is part of the series by the same painter and he's playing interesting games with the names and so forth so I would use that same thing as information but argue exactly the opposite which is that that if he's so clever at playing with names then he might be doing something very very unusual with the labels on his face is so that we can't just assume it's a name um but this is not I 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 Very general after all, very very conceptual just because you can use the same picture for different names and another interesting point from one of the old men è inscrita con il nome di un figlio di Füllehiero. L'altro non è l'altro, ma l'altro è un figlio di Füllehiero, che è differente, che è un po' più common di Füllehiero, ma l'altro è un figlio di Füllehiero. Questo è un po' che mi pensi che questo è un po' più generale, ma in questo senso, questo è un po' più sofisticato, di inscrivere, di rendere molto individuale, ma in fatto rendere molto generale. Io non credo che questo apprende con il nome di Nikke, perché, secondo la tradizione di Svier-Style, c'è nulla sorpresa in un Nikke con un caricaio. È un figlio di Nikke, perché non c'è nulla sorpresa. non c'è nulla sorpresa in un po' più non c'è nulla sorpresa in un po' più e non c'è nulla sorpresa in un po' più grande, ma non c'è nulla sorpresa in un po' più grande, perché si conoscevamo la storia d'un po' più grande, con il mio carico con la guerra con la guerra in the book of Lalo who can see la moneta di Stratunze la moneta di Stratunze con la guerra con la guerra so it's not just from I think also I think this one from the first century just from the first century I don't remember but I think so any other questions? there are other questions? what's the name? what's the name? no, I think I think I'm going to go to the question of the eventual state of the new state but the 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 who they don't al nuovo tempio lasciamo stare dove non voglio chiudere quest'anno però non è che ci sia una nuova stata del Tenacoliast si chiama Agama perché è il titolo antichissimo caduto dal cielo quindi questo mi fa pensare non necessariamente il fatto che Agama è una cosa che accade che suppone una nuova una nuova stata e con un fatto stato e poi Agama ci vada soltanto il sonno questo è quello mi credo quello che poi Eugenio intanto dice è quello che vedo la ragione poi c'è parte poi ad andare oltre quello che abbiamo naturalmente ci si possono immaginare cose però sempre con grande potere questo evidentemente non so che cosa ne pensi depends a bit on the status of the contentments in a certain view the contentments is the new Agama of the contentments my partenus I'm not 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 Sto dicendo che vi faccio un po' forze di sfruttore sul punto, nel senso che ci sono i punti feriti, questo mi fa il punto di vero. Martenus è Agama, perché è chiamato nei fondi, non mi ricordo di scritto, ma nel fondo è chiamato Agama. Poi noi facciamo Stato di Culto, anche qui non apro niente, ma è Agama, però è Martenus, cosa fare? Ecco adesso, quindi non è una nuova versione, da un punto di vista, ecco, non è una nuova versione. No, arrivi, adesso non ricordo il testo, non è un grafico. Allora, a questo punto credo che abbiamo spiscerato tutte le avene possibili e immaginabili e che bisogna tornare agli oggetti. e che la cosa da fare, e mi farebbe piacere che Gianfranco, nel suo spirito organizzativo, ci desse un appuntamento tra un po', abbiamo capito più chiaramente la storia delle molte vite dell'Atena e Atena, Atenaniche, capire se appunto quando arrivano le ali, sono ali umane, sono ali invece di quinto, abbiamo capito che verosimilmente sono ali non limitabili, ma sono ali di marmo, e come si combina questo sistema delle ali con la posizione frontonale, che è probabilmente tipotizzata, che crea problemi di visibilità anche probabilmente, no? e di posizione nella connessione e una mappatura appunto di tutti i punti che recano appunto i perni per capire come è fatto il sistema tra di loro. Credo che sia indispensabile e a questo punto io penso che ci lasciamo non con delle conclusioni, ma con una serie di domande in più su cui lavorare e a me farebbe molto piacere che voi lavorassi e che ci ritrovassimo qui tra un anno con qualche cosa in più per arricchire un ruolo che si è allargato, allargandolo anche appunto alla fortuna degli altri tipi alati, e appunto ipotizzando anche una possibile collocazione e una possibile funzione non solo a Verdene, ma anche a Roma, dove questa statua deve essere stata appunto un opus nobile visto e ammirato, se la Pitcair dipende da lei o se invece dobbiamo rinunciare a una relazione diretta della Pitcair con lei e suggerire appunto come mi sembra possibile la presenza di una sorella della sorgente gruppe della Pitcair con lei e della sorgente gruppe da cui la Pitcair dipenda. Credo che a questo punto le posso solo augurare buon lavoro e non so se mi avranno a rispondere qualcosa sugli atti, credo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. fatto contribuito alla discussione e a tutti voi per le domande, i commenti, i suggerimenti. Ho parlato già con il professor La Rocca e l'idea è quella di pubblicare al più presto possibile gli atti di questo nostro incontro. Vi salvo e come già ho espresso prima, mi è desiderata avere una riedizione della statua al Planker Museum, possibilmente con foto, nuove, queste notizie di archivio su cui stai già lavorando e avere tutta la documentazione possibile anche per quanto riguarda la l'originale greco della fondazione Sogente Group e ringrazio nuovamente Valentina e la fondazione per averci consentito di visitare in più riprese la statua a Roma, coloro che non l'avessero ancora fatto siete veramente invitati ad andare a vedere questo superlo e semplice della scultura marmorea del Vito secolo avanti Cristo. Quindi io vi farò vivo a breve, sarò una specie di avvoltoio e prometto, ovviamente siete tutti invitati a contribuire con relazioni, commenti, nove premi, saggi quanti su tutto quello che avete visto da del pomeriggio a oggi. Come avete capito le questioni aperte sono tante, siete invitati tutti a contribuire in maniera indifferenziata sui vari aspetti. Quindi vi prometto che vi farò vivo e speriamo a breve di avere la pubblicazione dei dati e benedizioni di interesse della statua sorgente e in più di un punto che ho visto la roba in pazitario anche di questo modere. Grazie a tutti di essere venuti e speriamo di vederci presto, lo avete capito. Grazie. 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 Grazie.